buonasera buonasera a tutti ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'insolenza di r2 di due on air serie di dirette streaming in cui ci stiamo occupando in questo periodo come sapete della terza stagione di the bad batch ma ci sono state tante sorprese nel corso di queste settimane sorprese più o meno che ci aspettavamo in realtà quella di questa settimana era davvero inaspettata e cioè l'uscita del trailer di tales of the empire che prende il posto di tales of the jedi perché tales of the jedi è stata riorganizzata e si è trasformata in tales of the empire per una società più salda e più sicura quindi in questo episodio dell'insolenza di r2 di due on air parleremo ovviamente del trailer parleremo di tutto quello che ci aspetta in questi nuovi corti animati e poi cosa più importante parleremo anche dell'arco narrativo di the bad batch 3 degli episodi 10 e 11 che a mio parere ha riportato un po la la questione sui binari giusti dopo le le vicende di ventres e avremo modo di parlare anche di questo e ci ha veramente ci ha dato tantissime tematiche tantissimi periferimenti c'è stata tanta azione è stato veramente un arco narrativo completo e avremo modo di parlarne in maniera approfondita ma come sempre io saluto tutti coloro che già mi stanno seguendo riccardo buonasera una sera rossana che dire più domande di prima dopo questi ultimi due episodi a proposito io diciamo ho anche una piccola sorpresina per voi ve ne parlerò dopo i saluti simone buonasera buonasera jacopo mi saluta sempre in mandua una serie lisa tre puntate ricchissime di bad batch nuovo trailer la notizia che ci sarà un po di andor nell'alba degli jedi parleremo anche di questo è credo che ne avremo di cose da dire è assolutamente sì perché c'è stato anche l'annuncio del fatto che williamon coscriverà insieme a james mungold il film sull'alba degli jedi e considerando quello che aveva fatto williamon soprattutto in andor è lo scrittore di uno degli archi narrativi più belli di andor se non l'arco narrativo più bello che quello di narchina 5 ci fa ben sperare e ne parleremo buonasera riella spero che tu sia bella fresca e riposata mi avevi detto buonasera vittorio buonasera serius alessandro buonasera insomma siete già tantissimi mxg buonasera allora a proposito se oggi sei una star mxg perché te lo dico perché mi hai fatto venire una roba in mente rispetto alla nostra scorsa live adesso vi spiegherò il perché il caro mxg non so come hai fatto evidentemente sia un mago però non posso dirvi altro nella scorsa live dedicata all'episodio 9 hai parlato per filo e per segno di tantissime cose che accadranno nei prossimi episodi a questo punto vi posso dire che sono riuscito avuto il piacere di vedere in anteprima tutti gli episodi rimanenti tranne ovviamente il finale e li ho avuti insieme agli episodi dieci e undici che però ovviamente non non avevo visto in anteprima perché come vi dicevo quando ho visto l'episodio di ventres non mi avevano ancora mandato le anteprime come ad esempio a molti statunitensi avevo letto che a tanti creator statunitensi avevano inviato le anteprime a me forse in italia non lo so sono arrivato una settimana dopo e infatti una settimana dopo con l'uscita del decimo e dell'undicesimo episodio ho avuto la possibilità di vedere in anteprima anche gli altri tranne il finale vi posso già dire la prima cosa che voglio dirvi e ci tengo sempre a ribadire questa cosa qui che molti creator americani ci hanno presi per i fondelli e questa è una roba che io non sopporto non posso dirvi il perché lo sapete sono limitato in questo senso nel parlarne però vi posso dire che mi ha dato enormemente fastidio il fatto che alcuni di questi creator che avevano visto le puntate in anteprima abbiano detto una castroneria totale tra l'altro invece oltre ad essere una castroneria è stata una questione che io ribadivo cioè era una mia convinzione che si è rivelata esatta però ecco non ne possiamo parlare adesso poi vi spiegherò parleremo anche magari delle antecipazioni dei prossimi episodi ma questa serata sarà veramente stratosferica cioè abbiamo una marea di roba di cui parlare o tra l'altro ecco come se non bastasse giustamente riccardo mi ricorda e ci ricorda che mercoledì ci sarà un altro evento importantissimo perché ci sarà il rilascio dello story trailer di outlaws il prossimo videogioco open world di star wars e stiamo aspettando tutti con ansia almeno io sto aspettando veramente con ansia quel giorno e il lucasfilm è sempre così chi diciamo mi segue da tanto sa che l'ho sempre detto ci sono momenti di nulla cosmico zero proprio passano i mesi senza il niente e poi ci sono momenti in cui non so più dove non so più praticamente come fare perché in questi giorni mi stanno mettendo a dura prova perché tra analisi del trailer e non ho potuto fare la reaction però ho fatto un altro video particolare per il trailer di case of the empire le analisi del episodi 10 e 11 e poi ci sarà il trailer insomma sono messo veramente a dura prova a proposito è uscita già l'analisi del decimo episodio la trovate sul canale ci tengo molto perché poi ne parleremo ma è uno dei miei episodi preferiti fino a questo momento e uscirà spero domani non lo so però spero sicuramente entro mercoledì uscirà l'analisi dell'undicesimo episodio e poi entro fine settimana sicuramente uscirà anche l'analisi del trailer di tales of the jade si buona notte di tales of the empire che conterrà una reaction che ovviamente non è una reaction a caldo perché è stato totalmente il problema passati i giorni non serviva però ho fatto una cosa divertente che è con l'ho pubblicata insomma insieme sarà pubblicata insieme all'analisi del trailer ultra dettagliata scena per scena ovviamente poi ne parleremo anche nel corso di questa serata è vero ad ogni live abbiamo sempre più news e questo ovviamente non fa che che renderci ancora più contenti buonasera a tutti buonasera paolo uh ci recuperi domani va bene non ti preoccupare lunga vita all'impero long live the empire luca buonasera puntate stupende finalmente siamo tornati sui binari la penultima mi ha ricordato parecchio andor anche il trailer fantastico a surprise to be sure but a welcome one buonasera chiara oh le vicende di ventre sono state riscritte allora sarà un brevissimo sinceramente perché abbiamo veramente tanto altro di cui parlare abbiamo ampiamente parlato di ventres al momento è tutto in stand by nel senso che la questione ventres come avevo immaginato c'è stata piazzata lì come una una bomba pronta esplodere ma in realtà era come come al solito come al solito verrà tutto poi sicuramente demandato ad una prossima ad un prossimo prodotto nella ricerca delle risposte come perché ripeto niente di nuova l'orizzonte c'è stato detto anche da jennifer corbeck quindi senza dilungarmi troppo sappiamo che per le risposte di ventres di eventuali riscritture ci tocca aspettare massimo ciao forte lo short sul fumetto di star wars uscito prima del film mitico ti ringrazio ne approfitto per dire che io pubblico ogni tanto pubblico degli short con delle curiosità su youtube e soprattutto lo faccio perché diciamo pubblico anche dei contenuti su tik tok se non se non mi seguite anche su tik tok mi raccomando andate a seguirmi anche lì ovviamente come sempre per quanto riguarda la live visto che poi oggi ci saranno veramente tante domande tante considerazioni da fare se dovesse sfuggirmi qualcosa non dimenticate che avete le super chat e i super sticker da poter utilizzare questa diretta facciamo colazione insieme sì dai per ripartire alla grande con con la con la prossima settimana facciamo colazione insieme di lunedì a quello è stato un momento topico puntata bella ci sono rimasto malissimo dice serius quando crosshair ha mancato la nave per il resto tales of the empire secondo me sarà fantastico ovviamente voi cominciate a darmi considerazioni se avete delle domande io come sempre vado un po a ruota libera allora quel momento è stato molto intenso perché rappresenta proprio uno si aspetta che nel finale ci sia quella minima speranza no dopo tutto quello che è accaduto nell'episodio la distruzione della marauder e la cattura di omega perché ovviamente si è consegnata e il fallimento di hunter che non è riuscito a prendere la cannoniera anche perché cx2 non si è fatto scrupoli e ha eliminato il il pilota insomma è andato tutto male e alla fine come direbbe il buon maestro bini sta andando tutto male alla fine è andato tutto male per davvero e e anche nella parte finale crosshair non è riuscito a piazzare il localizzatore quindi l'episodio acquista ancora più criticità cioè nel senso ancora più tristezza più rassegnazione dal punto di vista dello spettatore ma anche dal punto di vista dei protagonisti perché immaginate come come deve essersi sentito crosshair per questo suo fallimento per non essere riuscito a piazzare il localizzatore e immaginate poi è anche questo sarà un buon motore di quelle che saranno le vicende delle prossime puntate quindi sappiate insomma che crosshair ovviamente sente molto molto in colpa tra l'altro elemento portante dell'undicesimo episodio è stato ovviamente il confronto con omega e il fatto che c'è quel ho apprezzato tutto di quel confronto lì perché da un lato ci mostra quanto omega sia cresciuta sia maturata e dall'altro mostra che crosshair non insiste tanto nel volerle dire no devi stare a bada no troveremo un'altra soluzione non perché a lei non interessi a lui non interessi di lei e questa è la cosa interessante cioè se avessimo visto questo episodio senza una crescita del loro rapporto del loro legame avremmo pensato quello avremmo pensato vabbè per crosshair omega non è che ha tutta questa importanza invece sono stati bravi perché la crescita del loro legame nel corso del tutti gli episodi della terza stagione ha fatto sì che quel momento significasse non che crosshair non ci tiene ad omega ma ovviamente invece che crosshair non solo tiene ad omega ma è anche consapevole forse è molto più consapevole di hunter da questo punto di vista di quanto omega sia cresciuta di quanto sia maturata e di quante sia di quanto siano alte le sue le sue potenzialità dal punto di vista di indipendenza ecco cioè crosshair è molto più cioè nonostante ci tenga ad omega tende di meno rispetto ad hunter soprattutto di tenerla in questa bolla di iper protettività come aveva detto ventres quindi questo è un elemento che mi ha colpito molto perché nonostante crosshair sappia cosa significa di consegnare omega cioè praticamente distruggere tutto quello che avevano fatto fino a quel momento però sa anche che il piano di omega non è del tutto sbagliato cioè omega giustamente dice abbiamo provato in tutti i modi a trovare ste caspita di a cercare ste caspita di coordinate non ce l'abbiamo fatta quindi io mi sacrifico per portarvi anche alla possibilità di scoprire queste coordinate e poi c'è tutta c'è tutta una questione legata a questa roba delle coordinate che vedremo nei prossimi episodi non vi dico nulla però ci sarà da discutere perché anche lì magari a primo impatto potrete pensare è una scelta strana narrativamente parlando però vi posso assicurare che quando lo vedrete già comunque dalla prossima settimana non vi preoccupate quando vedrete questa scelta narrativa che hanno fatto acquisterà un senso non vi dico niente a mamma mia è stato uno spettacolo Jacopo quando ho letto il nome di willimon ho detto allora siamo veramente in una botte di ferro è diventato non è che non lo stessi aspettando questo film però tra le tante tra le tante cose che comunque arriveranno nei prossimi anni il film era questo film sulla roba degli jedi era un po andato diciamo in stand by perché comunque ci voleva il tempo che ci voleva è schizzato proprio ai primi posti del mio hype veramente una roba incredibile è stato è stato filoni perché ha detto non solo gli faccio saltare l'episodio di ventres ma li faccio saltare anche gli altri due così gli aumento il lavoro perché voi sapete bene che il fatto purtroppo di non avere gli episodi in anteprima mi pesa tanto soprattutto per la questione del lavoro con con le analisi eccetera eccetera e infatti spero che oggi filoni non mi faccia saltare la corrente come durante la scorsa live perché parleremo ovviamente del trailer di tales of the empire però sarò forse un po più un po più buono rispetto a quando uscì il trailer di tales of the jedi in merito alle riscritture perché anche qui è no non è che ce la scampiamo perché anche qui il pericolo delle riscritture c'è dirò anche dove secondo me potrebbe esserci questo pericolo però ma forse ce la possiamo scampare rispetto allo scempio che è avvenuto in tales of the jedi stavo leggendo i commenti di mxg guarda veramente sei stato formidabile infatti sono sicuro che adesso molti andranno a leggere le tue domande specifiche nella scorsa live però ad esempio di quelle di cui posso parlare perché hai espresso anche delle domande interessantissime su quello che poi succederà nei prossimi episodi perché quando io sono andato quando ho visto gli episodi in anteprima ho pensato a te ho detto ma come caspita fatto quindi pensavo che anche tu avesse avuto le domande in anteprima e le episodi in anteprima perché veramente hai hai trovato degli argomenti che sono giusti e tra quelli di cui possiamo parlare c'era anche l'apparizione di Tarkin credo che in una domanda mi avessi chiesto se pensavo che Tarkin sarebbe ricomparso e ovviamente l'abbiamo visto nel nel decimo episodio tra l'altro purtroppo c'è stato un errore ma sapete che con le mostrine io sono un po meno severo c'è stato un errore con la mostrina di Tarkin se avete visto la l'analisi della del decimo episodio lo sapete ne ho parlato perché Tarkin ci viene mostrato di nuovo con la mostrina di Gramhoff ci tengo a ribadirlo che Tarkin non era Gramhoff all'epoca lo sarebbe diventato quattro anni dopo negli eventi del romanzo Tarkin tra l'altro all'epoca non esisteva nemmeno la carica di Gramhoff quindi è un errore che purtroppo era stato già commesso nel terzo episodio della prima stagione però non sono tanto arrabbiato perché sulle mostrine ve l'ho sempre detto c'è una confusione pazzesca e infatti non ci do mai tanto peso perché si fanno spessissimo errori con le mostrine con i gradi ecc più che con i gradi in realtà perché poi i gradi sono sempre corretti perché ad esempio no Emlock non lo chiama Gramhoff cioè se l'avesse chiamato Gramhoff allora lì mi sarei arrabbiato però Emlock comunque lo chiama sempre governatore Tarkin e all'epoca Tarkin era un semplice Moff cioè era governatore del settore di Sesvenna e infatti sarebbe stato consono come ho detto anche nella nell'analisi mi sarebbe piaciuto vederlo magari con la mostrina di Moff che tra l'altro non è tanto differente da quella di Gramhoff perché comunque ci sono cinque placche cinque placche blu sopra e sotto abbiamo tre placche rosse due gialle praticamente una placca gialla in meno e una blu in meno rispetto a quelle di Gramhoff che tra l'altro è la mostrina che Tarkin ha in episodio 3 la vendetta dei Sith quindi sarebbe stato anche consono dargli questo questa mostrina qui però sorvoliamo sorvoliamo anche perché sul trailer di Tales of the Empire c'è una questione riguardante le mostrine di Tron però ne parlerò tra un po' Riccardo Ghetano intendi il fatto che gli ultimi episodi di The Bad Batch non sono così tragici come certi content creators hanno affermato allora in realtà la tragicità c'è c'è nel senso è sempre una tragicità legata a quello che abbiamo visto anche in questo arco narrativo ad esempio io dico non vi aspettate chissà che cosa ecco quindi questa sì è già una cosa importante secondo me hanno un po' calcato la mano sono belli a me sono piaciuti tanto come episodi però non c'è tutta sta roba che ti devi strappare le vesti parliamoci chiaro ripeto sono belli però non c'è tutta questa tragicità decantata e soprattutto c'è un altro elemento che non è assolutamente vero e mi ha fatto veramente arrabbiare questa cosa perché poi come se le persone fossero non lo so è vero che di solito si ha la memoria corta quando succedono queste cose magari come l'oroscopo è un qualcosa che se diciamo uno ci azzecca dici ah guarda l'oroscopo ci ha azzeccato se invece non ci azzecca non ci pensi la stessa cosa è la cosa che è stata detta non lo posso dire purtroppo perché si parla di un personaggio però ci siamo capiti viene letta una cosa su questo personaggio non è assolutamente vero e questo mi ha fatto arrabbiare perché poi che succede sì perché devono creare le false aspettative nei fan perché li devono far stare con l'acqua alla gola a me questa roba non mi piace e sinceramente non vedo perché dover dire una bugia del genere tra l'altro va anche contro va anche contro quello che ti chiedono perché nessuno ti chiede quando nessuno dice parla di quella cosa lì questo è poco c'è questo vi posso assicurare che non è così non ti dicono di cosa devi parlare anzi ti dicono cerca di dire il meno possibile cioè personaggi situazioni c'è proprio un disclaimer che ti dice personaggi situazioni non svelate niente perché comunque il pubblico deve mantenere una certa giustamente deve mantenere una certa non deve non deve conoscere non deve sapere perché altrimenti non avrebbe senso quindi che questi creator che dicono queste robe solo per aizzare il fandom sinceramente infatti sono avevo una l'avevo anche come fonte ma mi è proprio scaduta lasciamo perdere emanuele ghettano non ho visto the bad batch non sto seguendo la nuova stagione puoi dirmi senza fare spoiler se il ritorno di ventre è giustificato se filoni ha un'altra volta raccontato un romanzo allora come ti dicevo caro emanuele purtroppo al momento la questione rimane in stand by un post e diventa e continua ad essere la ventress di schrodinger cioè nel senso retcon può esistere ma come non può esistere mio parere questo la riscrittura probabilmente non ci sarà perché si inventeranno una supercazzola clamorosa per la sua sopravvivenza però comunque ci sarà cioè nel senso sarà una retcon in diretta perché come ho spiegato in tanti video in tante analisi in tante live il personaggio di ventress non poteva veramente sopravvivere cioè proprio se con palpatine possiamo avere il beneficio del dubbio con maul possiamo avere il beneficio del dubbio con ventress era talmente dettagliata la questione che è assurdo oltre a questo in realtà se anche dovessero trovare una soluzione clamorosa per il suo ritorno comunque sarebbe rovinato tutto il pathos dell'epilogo di quel finale quindi da qualsiasi angola da qualsiasi angolazione la si voglia mettere quel quell'opera è irrimediabilmente rovinato questo è poco ma sicuro purtroppo la risposta certa l'avremo in un prodotto successivo quindi non ti preoccupare se non hai visto bad batch non succederà niente tra l'altro però ti consiglio magari quando finirà do bad batch ti consiglio di comunque di dare una possibilità questa serie perché la prima stagione così così però poi migliora tantissimo ma il problema è questo dice wolfpack mi preoccupa il fatto che purtroppo queste serie come tales of the jedi e of the empire che approfondiscono cose più nello specifico potrebbero anche riscrivere alcune cose canoniche allora visto che ne stiamo parlando vi dico qual è la mia più grande paura ovviamente quale può essere la mia più grande paura sono stati bravi e questa è già una roba inusuale perché sono stati bravi perché nel trailer trone un ammiraglio è questo già interessante la mostrina di trone ammiraglio è giusta attenzione perché ci sono sei placche blu e se qualcuno di voi mi sta dicendo che età non vedi che stai sbagliando perché erro nel fumetto adattamento del romanzo trone quella non è la mostrina di ammiraglio e effettivamente la mostrina di ammiraglio in realtà ha sei placche rosse e sei placche blu vi posso dire che in realtà la questione è complessa ve l'ho spiegata all'interno dell'analisi del trailer ma ve lo spiego anche qui perché forse è una cosa che non molti sanno perché è una cosa abbastanza recente all'interno del canone dal due o tre anni massimo se si sta creando una differenziazione tra quelle che sono le mostrine imperiali pre distruzione della morte nera e quelle che sono le mostrine imperiali post distruzione della morte nera quindi quelle pre distruzione della morte nera quindi di tutte le opere precedenti si tende a tende a prevalere la mostrina con fila singola il grado è dato da una mostrina che ha un'unica fila di placche e questo lo possiamo vedere in andor in obi wankenobi e in altri prodotti recenti invece tutte le mostrine post posti abin praticamente hanno la doppia fila quella classica è anche vecchia insomma è anche quella originaria perché si è fatta si è creata questa differenziazione per tutta una serie di motivi ovviamente non vi posso spiegare però alcuni prodotti che comunque sono ambientati prima di episodio 4 continuano ovviamente a mostrarci la doppia mostrina quindi ad esempio anche rebels per esempio ma il roguan stesso anche se da roguan in realtà c'è roguan poi ha dato in là questa cosa della mostrina unica però alcuni personaggi ci vengono mostrati con una mostrina doppia a doppia fila insomma tutti alti tantissimi altri prodotti che sono ambientati prima di episodio 4 ci presentano comunque la doppia mostrina quindi se la vedete non è un errore ma il fatto che queste opere non erano aggiornate a questa questione che non è stringente ripeto la stessa cosa è successa con il adattamento a fumetti perché il romanzo ti dice solamente che tron è diventato ammiraglio nel 9 bby e invece ovviamente l'adattamento a fumetti è stato il pre è stata la prima opera che ci ha fatto vedere la mostrina di ammiraglio però purtroppo l'adattamento fumetti di tron ha un altro errore con le mostrine ce le mostra tutto al contrario ecco perché vi dicevo che io con le mostrine non mi arrabbio perché è un è un casino totale cioè veramente una roba si fanno veramente molti più errori che cose giuste perciò tutto questo per dire che sono stati bravi perché la mostrina di ammiraglio è giusta quella di tron è giusto il fatto che lui sia un ammiraglio all'epoca perché tron la scalata al potere l'ascesa imperiale di tron viene narrata proprio nel primo romanzo è il lasso di tempo in cui tron è stato ammiraglio va dal 9 bby fino al 2 bby quando è diventato ufficialmente grande ammiraglio quindi l'episodio quell'episodio lì quel corto in cui lui incontra morgan elspeth molto probabilmente lo vedrà cioè lo vede come ammiraglio e quindi molto probabilmente spero sia ambientato in questo lasso di tempo qual è il problema per arrivare a quella che la mia paura il problema è che in quel lasso di tempo come sappiamo tron era circondato da personaggi chiave conosciamo dal romanzo come il ai vanto come karim faro eccetera eccetera la mia paura è che piloni se ne possa totalmente fregare di questi personaggi cosa probabilissima e che ci possa inserire ad esempio un pallion già all'epoca quando noi sappiamo che canonicamente salvo appunto le pilonate all'epoca tron non aveva a che fare con pallion ancora o meglio non ci aveva a che fare per la maggior parte del suo tempo quindi la mia speranza è questa la mia speranza è che l'apparizione di tron sia limitata cioè i corti sono dedicati a morgan elspeth ok vediamo tron che va su corbus perché quello è sicuro corbus tron che va su corbus perché morgan elspeth l'aveva che ne so l'aveva chiamato e praticamente sta lì accetta l'offerta di morgan di entrare nell'impero e se ne va ciao buonanotte suonatori non ci fanno vedere nient'altro questo vorrei perché meglio evitare le retcon che ovviamente illudersi di vedere dei personaggi che vuoi vedere come ad esempio nila ivanto e poi far sì che vengano addirittura retconnati sarebbe una roba clamorosa è bruttissima tra l'altro anche in quella scena c'è un qualcosa che non mi convince molto che è la presenza di quei tre star destroyer perché è vero che da ammiraglio tron aveva già il chimera ma è anche vero che all'epoca aveva comunque solamente una task force la novantaseiesima quindi non aveva ancora la settima flotta e anche quello bisognerebbe capire un po bisognerebbe un po giostrare però sono paure molto molto più piccole rispetto a quelle che erano non solo paure ma erano certezze all'epoca di tales of the dai le questioni di asoka e le questioni di due ve l'avevo detto erano certezze e infatti c'è stata la certezza delle riscritture fortunatamente in questo caso la certezza non c'è perché l'asso di tempo è talmente lungo ci sono sette anni di possibilità però effettivamente è stato un ammiraglio devono c'è o filoni lo fa veramente apposta e ci be e ci mette dentro pallion perché tanto lui si deve collegare solamente a domanda lorian si deve collegare solamente ad asoka tra i prodotti suoi e quindi se ne frega altamente del tron di quel periodo oppure ci fa la decenza ci fa il favore di dire vabbè butto solo tron così evito rotture di scatole ma conoscendo filoni sinceramente mi aspetto il peggio quindi aspettiamoci il peggio per avere il meglio magari caro mxg dopo ciò che hai detto live per questa live che c'era molto altra è salita ai livelli di limitato potere ti sei sentito un po palpatine oltre a questo sono curioso di sapere cosa ho azzeccato guarda hai azzeccato una roba bellissima non te lo posso dire però io quando ho risposto alla tua domanda all'epoca cioè all'epoca una settimana fa quando ho risposto alla tua domanda ho detto è una è una robetta interessante però non mi aspettavo che potesse succedere perché si è andato a beccare una roba molto precisa veramente non dico niente perché sennò vi rovino la sorpresa perché una cosa veramente bella e si è andato a beccare tanto appare già nel prossimo episodio questa sorpresa sono rimasto piacevolmente colpito perché è stata una cosa ne parleremo nella prossima live però è stato molto molto bello o caro jacopo io adesso appunto leggo le vostre domande in base a quello svisceriamo gli argomenti giustamente jacopo dice abbiamo nel trailer addirittura marrock la cosa è passata quasi inosservata ovviamente come tanti altri è perché insomma per carità non sono certo l'unico che possiede due occhi è interessante la questione di marrock perché ne ho parlato anche nell'analisi del trailer sono curioso di capire se oltre ai corti dedicati a barris perché marrock compare nei corti dedicati a barris hoffi potrebbe essere collegato magari sarebbe interessante se si collegasse con quelli che sono i corti di morgan elspeth potrebbe essere un bel collegamento perché poi sappiamo che marrock che sicuramente era già defunto da tempo sarà sfruttato da morgan tramite la magia delle sorelle della notte sarà sfruttato da morgan nella serie asoka quindi potrebbe essere interessante che magari appare nel corto dedicato a barris hoffi e poi lo vediamo anche magari in un corto dedicato a morgan sarebbe molto molto interessante e tra l'altro molti avevano detto potrebbe anche essere l'ottavo fratello perché possiedono un elmo che è molto molto simile però vi posso assicurare che si tratta di marrock tra l'altro in quella scena vediamo anche il inquisitore che dovrebbe dovrebbe essere il sesto fratello ma come vi dicevo nella scorsa live lucas film non dirà mai che quello è il sesto fratello perché sennò dovrebbe ammettere la retcon del sesto episodio di tales of the jedi quindi quello è ancora definito come inquisitore senza nome la quarta sorella molto interessante e lì è stato interessante il fatto che questo personaggio che è comparso per la prima volta in obi wankinobi avrà un peso specifico importante l'ho vista in molte scene è presente in molte sequenze tra l'altro ci è stato svelato anche il suo nome che è l'in e sarà molto presente nelle nei corti dedicati a barris questo è interessante poi ovviamente nell'analisi del trailer ho ricostruito i corti cioè quelli che secondo me potremmo vedere perché lo sapete la serie seguirà il format della prima stagione quindi non vi preoccupate perché molti giustamente con filoni purtroppo ti dà il campanello d'allarme quando hanno visto che ne so grievous hanno pensato anche grievous sopravvissuto no non vi preoccupate perché ovviamente ci sono i corti che saranno ambientati in varie fasce temporali come era stato nella prima stagione ad esempio soprattutto anche con asoka abbiamo visto più fasce temporali della loro della loro vita stessa cosa con morgan elspeth e anche con barris di morgan mi aspetto lo ripeto l'ho detto nell'analisi del trailer ma già ve lo anticipo mi aspetto che il primo corto sarà ambientato più o meno nel 20 quindi durante la la strage delle sorelle della notte il massacro delle sorelle della notte su datomir e poi cosa interessante perché adesso vi spiegherò forse morgan verrà accolta da un altro clan perché perché all'interno del trailer c'è una particola un particolare personaggio che viene definito come la matrona del clan della montagna dovete sapere ne ho parlato ripeto sempre in maniera perché abbiamo parlato di tutto nell'analisi del trailer che sarà molto molto lunga esiste all'interno sia del canone che è stato ricanonizzato in realtà e soprattutto nelle opere legends esisteva un clan di streghe di datomir che si chiama singing mountain il clan di singing mountain perché la montagna si chiamava che è un altro clan di streghe oltre alle sorelle della notte che secondo me potrebbe accogliere potrebbe accogliere morgan potrebbe aver accolto morgan dopo quello che è accaduto su datomir e potrebbe essere interessante presentare un altro clan di streghe oltre alle sorelle della notte perché permetterebbe di ampliare la lore di datomir che non fa mai male la scelta che comunque apprezzerei questo potrebbe essere diciamo il la trama del primo corto per il secondo invece mi aspetto la conquista di corbus in epoca imperiale perché quando morgan si unisce all'impero la vediamo già con a parte che la vediamo già con la lancia di beskar e poi la vediamo già su corbus quindi io sono sicuro al 90 per cento che quando morgan si unisce all'impero ha già conquistato corbus ed è già magistrato anche perché in molte scene e questa è una cosa che poi ho collegato ad mandalorian in molte scene vediamo corbus diciamo con gli alberi che sono ancora integri se ben ricordate gli alberi di corbus erano molto spogli e soprattutto c'era sempre quella fuligine sempre quella cenere non è un caso che all'interno di questo trailer molti personaggi che fanno parte della milizia di morgan appicchino il fuoco su corbus molte scene di fuoco infatti anche se confonde perché le scene di fuoco alcune sono messe insieme a quelle di datomir però molte scene di fuoco non sono ambientate su datomir sono ambientate su corbus e secondo me questa sarà una chicca per farci capire che corbus poi in realtà a incendiare le foreste di corbus è stata proprio morgan nesbeth e come vi dicevo lei credo nel secondo corto potrà conquistare corbus e si unirà all'impero nel terzo corto invece che forse è uno di quelli più interessanti la vedremo sbaragliare diciamo così quella delegazione della nuova repubblica perché la mia idea è questa la mia idea è che dopo la fine dell'impero quindi dopo il crollo dell'impero una delegazione della nuova repubblica da chiamata magari da wing che il personaggio che abbiamo visto anche in mandalorian avesse tentato di parlare con morgan dicendo guarda infatti c'è anche l'emissaria dicendo guarda l'impero è caduto sarebbe duopo sarebbe giusto che tutti annettessi alla nuova repubblica senza fare tante storie ovviamente morgan da un orecchio li entra dall'altro riesce li sbaraglia come abbiamo visto e quindi continua a governare su corbus fino all'arrivo di asoka nel 9 e buai questa è la mia idea per i corti dedicati a morgan per quelli dedicati a barris è un po più confusionare la questione perché in un corto probabilmente lei sarà presa e ci sarà la prova diventare inquisitrice poi lei diventa inquisitrice lo vediamo e ci sarà una caccia sul campo perché si vede la scena in cui lei corre per raggiungere praticamente il proprio la quarta sorella che sta combattendo con una giri sopravvissuta mio parere e poi secondo me ci sarà il terzo corto che però non c'è stato mostrato dove succederanno magari delle non credo che barris troverà la sua fine già in questa serie però per barris mi aspetto una fine un po tragica soprattutto perché c'è l'incontro con veder non deve essere stato molto piacevole soprattutto per veder ma vedremo ecco ne parleremo sempre nel corso della serata perché adesso recupero un po di vostri commenti allora devo ammettere adesso a parte tutto tutte le mie preoccupazioni ma quando ho visto tron con l'animazione in the clone wars ho detto ma che figo è già tron di per sé è un figore poi lo vedi così con quegli occhi con quegli occhi da cis che taglia nel buio con l'animazione di clone wars è una roba clamorosa cioè ho detto mamma mia se vedessi aralani così all'epoca non accadrà mai però potrei avere un mancamento questo questa è proprio la cosa che dobbiamo a proposito del commento di rossana ci tengo a ribadire una roba importantissima perché lei dice a questo punto non capisco perché nella se ha deciso di creare omega non più solo per avere un assistente abbiamo sempre l'interrogativo su omega però se ci avete fatto caso il decimo episodio cementifica e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere cementifica ancora di più il fatto che omega cioè la cosa importante di omega non è il fatto che lei sia sensibile alla forza ripeto probabilmente succederà probabilmente accadrà che ci faranno vedere omega che usa la forza ma il fatto che si vogliano concentrare continuino a concentrarsi sulla questione scientifica mi fa molto più piacere perché emlock questo nel decimo episodio lo ribadisce veramente chiarissimamente dice in primis dice una cosa importantissima dice il fatto che il valore m non si può replicare direttamente dalla fonte e quando le ho sentito questa cosa ho detto oh quindi vuol dire che quello non è un clone di ventres perché non si può replicare direttamente dalla fonte quindi questo significa che anche prendendo il sangue di ventres dal cosa che avevamo immaginato ma sinceramente io non ci avessi dato mai peso comunque c'è bisogno di un legante cioè replicare il valore m dalla fonte impossibile quindi cosa emlock dice nella se conoscevo un modo ok dice anche noi comunque siamo riusciti dopo tante peripezie abbiamo trovato il fatto che il sangue di omega è l'unico legante con il sangue di questi esperimenti di quei poveri bambini che mi hanno porca miseria mi hanno stretto il cuore ne parlerò perché mi hanno veramente lasciato un segno quei poverini fanno da legante soprattutto perché omega è un giovane clone quindi c'è stato spiegato questa roba qui ed è importante importante perché la sensibilità alla forza di omega se c'è o non c'è passa in secondo piano come giusto che sia perché io sinceramente non voglio cioè sì omega userà la forza un giorno probabilmente però non è questo che volevo vedere quello che volevo vedere è l'avanzamento del progetto necromante questo mi interessa mi interessano questi dettagli non mi interessa c'è tutti quanti giustamente dopo il terzo episodio a omega sensibile alla forza omega sarà una g di subito le persone vanno sempre con sta roba tra l'altro il decimo episodio perché mi è piaciuto tanto perché amplifica ancor di più le questioni sui gedi e sulla sensibilità alla forza su su chi i gedi scegliessero di portare al tempio in base a questo c'è un commento di se elisa sta sicuramente ancora seguendo la live che avevo promesso che avrei parlato di questa questione all'interno della live perché giustamente c'è un commento che dove lei dice all'interno dell'analisi del trail scusate dell'analisi del decimo episodio ho ipotizzato perché mi sembra abbastanza palese ho ipotizzato che quei tre bambini che vediamo non siano stati mai portati al tempio ed è facilissimo perché l'ordine gedi era caduto da nemmeno due anni quei bambini secondo me meno di dieci anni non possono avere diciamo otto anni facciamo così 8 9 10 anni anzi secondo me il ragazzo mi rialano neanche di più cosa significa questo significa che loro sono totalmente ignari della loro capacità sono totalmente ignari del loro potere delle loro caratteristiche si la c'è si lamentano giustamente poverini del fatto di voler tornare a casa quindi hanno una loro casa in cui tornare perché se fossero stati non avrebbero mai potuto parlare del tempio come casa in questo caso perché saprebbero benissimo che il tempio è andato non hanno mai ricevuto un addestramento e questo si vede palesissimo perciò questo significa una sola cosa cioè che i gedi non li hanno mai portati al tempio e possono esserci due possibilità o non sono mai stati trovati oppure non erano abbastanza per i gedi perché questa è una cosa che finalmente voglio sfatare questo mito clamoroso perché se tutti noi abbiamo sempre io ho sempre detto solo io diciamo star wars ha sempre detto che tutti potenzialmente sono sensibili alla forza che quindi i gedi ovviamente non potevano addestrare tutti gli esseri viventi che significa significa e questa è una cosa che la gente non vuole capire perché la gente dice solo quelli solo le persone che i gedi trovano sono sensibili alla forza no i gedi sono un ordine elitario questo significa che anche i gedi facevano delle scremature i gedi cercatori se trovavano un bambino che aveva una sensibilità alla forza misera non lo portavano al tempio cioè capite questa cosa interessante la cosa interessante è che i gedi erano interessati solamente a chi manifestava una forte sensibilità alla forza cioè questo è il punto perché i gedi ripeto sono un ordine elitario i gedi cercatori che scandagliavano la galassia cercavano i più promettenti non cercavano tutti questo è un concetto che purtroppo molte persone fanno fatica a metabolizzare invece così e questo è un altro esempio cioè nonostante m block di dica che questi bambini hanno un alto valore m tra le varie possibilità è probabile che i gedi non l'avessero diciamo li avessero trovati li avessero scartati ma possibilità ancora più importante e questo poi vi farò un esempio clamoroso perché la gente non lo vuole capire ma c'è un esempio clamoroso cosa più importante è che probabilmente questi bambini non sono mai stati trovati dai giri cercatori semplicemente perché scandagliare tutta la galassia era impossibile anche scandagliare un singolo pianeta abbiamo visto sono una pantorana un ictoci è un mirialano sono pianeti comunque che soprattutto i mirialani hanno sempre sfornato forse user importanti e ciò significa che anche all'interno di un pianeta noto per sfornare forse user era possibile che alcuni bambini sfuggissero perché la galassia è talmente grande cioè queste sono le cose che ti fanno capire quanto la galassia sia grande e vi faccio l'esempio più clamoroso c'è un forse user leggermente potente che non è stato mai mai scoperto dai giri ma non perché lo volesse lui da bambino parliamo sempre anche se canonicamente non sappiamo niente la mia ipotesi canonicamente ripeto è sempre questa il fatto che palpatine sto parlando proprio di lui pur abitando su nabu è un mondo centrale nelle nelle vicende galattiche non è stato mai perché palpatine non è mai stato al tempio giri non è mai stato addestrato nelle vie dei giri ed era lo stesso motivo per cui nel corso dei millenni i siti riuscivano a selezionare dei potenziali apprendisti non certo andandoli a pescare al tempio giri come ripeto ci sono tanti altri ordini però questi elementi finalmente fanno sì che le questioni si possano ampliare che le perché non rimaniamo sempre con con i paraocchi e no perché i giri portavano tutti i bambini al tempio diventavano giri se sei sensibile alla forza sei per forza un giri basta cioè ampliamoci e devo dire che questa queste questioni mi sono piaciute tanto e senza che mi dilungo tanto poi ci ritorno magari però voglio rispondere anche alle altre domande giustamente lisa poneva un quesito interessantissimo cioè lei diceva è possibile che questi bambini fossero stati trovati dai giri cercatori ma i genitori si fossero rifiutati cioè era possibile effettivamente per un genitore rifiutare la chiamata all'ordine giri questa è una domanda interessantissima perché se tralasciamo le opere legends perché nelle opere legends ci sono molti casi in cui le voci la propaganda anti giri in molti esempi anche soprattutto nella vecchia nella vecchia repubblica in generale in tante altre opere sul fatto che i giri strappassero i bambini alle proprie famiglie senza senza remore oppure costringessero le famiglie da un certo punto di vista ma in realtà i giri non costringevano le famiglie a prendere a lasciare i propri figli dovete immaginare dovete immaginare l'ordine giri come una roba proprio inarrivabile cioè per un bambino soprattutto nella maggior parte dei casi si trattava comunque magari di questioni di non dico famiglie disagiate cioè ovviamente non tutti se la passavano bene nella galassia diventare giri soprattutto in tempo di pace era veramente vincere non vincere la di più quindi i genitori nella maggior parte dei casi sapendo quello che sarebbe stata la vita del dei loro figli i giri erano qualcosa di leggendario non avevano nessun tipo di remora in questi nei confronti di questa strada però molti potevano rifiutarsi perché dicevano io il mio figlio lo voglio qua bello vicino a me vicino a mamma sua deve stare e quindi rifiutavano e i giri non si opponevano al rifiuto certo magari osservavano questo forse user soprattutto se era abbastanza potente però soprattutto se molto spesso sfuggivano anche nei mondi dell'orlo esterno anche anakin è sfuggito e giri inizialmente perché comunque loro avevano sempre il loro bel da fare quindi se una ti diceva no sinceramente i giri cercatori non gli interessava niente magari insistevano un po dicevano signora guardi che suo figlio è promettente sua figlia è promettente no o non ne voglio sapere noi ce ne andiamo e adios c'erano poi altri casi ad esempio un caso emblematico è quello dei mandaloriani nel corso dei secoli ma quando i giri cercatori tentavano diciamo trovavano dei bambini mandaloriani sensibili alla forza nei mondi mandaloriani e cercavano di portarli non potevano nemmeno avvicinarsi perché come sapete non scorreva buon sangue tra i giri mandaloriani e quindi questo ha fatto sì che nel corso dei secoli non ci fossero più giri mandaloriani perché uno dice ma vi sarete chiesti ne ho parlato in altre live però se avete saltato questo pezzo vi sarete chiesti perché non ci fossero giri mandaloriani a parte le dovute eccezioni tarbisla sabine quando sarà il suo momento eccetera cioè nel senso perché non ci sono stati giri mandaloriani perché semplicemente i giri cercatori non erano ben accetti nei mondi mandaloriani quindi quando si resero conto non ci proviamo nemmeno più smisero di andare su mandalo raccogli su qualsiasi altro pianeta su concordone su qualsiasi altra luna a cercare mandaloriani sensibili alla forza perché dicevano tanto questi ci cacciano con i porconi che ci interessa a noi quindi capite la sostanziale differenza non sta nel fatto che i mandaloriani non sono sensibili alla forza sta nel fatto che i giri non li cercassero questa è una profondissima differenza ma è una differenza minima ma che ti fa tutto perché come vi dicevo potenzialmente tutti possono ricevere un addestramento magari non riuscirai mai a padroneggiare la forza come la padroneggerebbe un giri importante o come la padroneggerebbe un force user dotato ma magari avrai delle connessioni in più riuscirai ad essere più empatico nei confronti della natura riuscirai a meditare a tranquillizzare gli altri nella meditazione cioè non è che utilizzare la forza significa solo fare il trucchetto mentale oppure usare la telecinesi cioè la forza è anche soprattutto una questione di connessione con il resto della della natura e di tutto ciò che ti circonda quindi anche coloro cioè anche stare vicino a qualcuno è riuscire a farlo stare bene cioè anche questa poteva essere utilizzare la forza cioè ripeto dobbiamo un po scardinare il concetto del fatto di saper utilizzare la forza e quindi saper fare solo cose straordinarie la maggior parte delle persone che avevano una poca poca concentrazione di minichlorian in modi molto meno apparescenti poteva comunque utilizzare la forza questo è il concetto che non entra nella mente di tanti the white tigers buonasera secondo te è possibile che in tales of the empire si scopra che barris è la settima sorella senza che ciò causi riscritture io spero in ogni caso che rimangano due personaggi separati no non è non è proprio il caso cioè nel senso sarebbe veramente una roba clamorosa ma comunque filoni non è capitato che retconnasse le sue stesse opere però non così sono due personaggi completamente diversi e tra l'altro anche i tatuaggi miriali sono completamente diversi non è la settima sorella non è mai stata concepita per essere barris filoni ha sempre detto che aveva progetti per barris lo dice da anni quindi possiamo star certi sul fatto che si manterrà ovviamente la cosa che sono due personaggi completamente differenti riccardo ti giro una domanda che hanno fatto a me ma qui non sapevo come rispondere come mai scorcio è così fedele all'impero allora io l'ho vista molto l'esperienza di scorcio la vedo molto simile all'esperienza di crosshair cioè nel senso abbiamo abbiamo scoperto il fatto che molti cloni servissero l'impero semplicemente perché eseguivano gli ordini cioè vi spiego meglio non è detto anche anche per scorcio non è detto che la questione chip sia preponderante perché perché con codi ad esempio abbiamo visto che codi ha continuato a servire l'impero ma si faceva degli scrupoli e questo poi l'ha portato a sparire non sappiamo ancora che ha fatto anche crosshair fino a un certo punto ha servito l'impero poi si è fatto degli scrupoli perché perché crosshair cioè codi si è fatto degli scrupoli perché era codi crosshair si è fatto degli scrupoli perché ha capito che i cloni all'interno dell'impero valevano meno di zero questo è il motivo che ha spinto crosshair a redar c'è a ragionare insomma a fare due più due a dire forse l'impero non è propriamente il regime giusto che io che io vedevo da seguire per wolf ad esempio la stessa cosa è vero che wolf ha ancora il chip però sicuramente l'intensità del chip non è la stessa di due anni prima e wolf era assolutamente convinto di quello che faceva quindi dove voglio arrivare voglio arrivare al fatto che purtroppo il chip adesso vi dico una cosa importante perché vi sto parlando della prima grande retcon di filoni o meglio prima no però una delle tante dell'epoca come ben sapete prima di the clone wars non esistevano i chip inibitori e quando i cloni nelle opere legends quando i tro i cloni tradirono i cedi lo fecero di loro spontanea volontà questo significa che eseguirono realmente gli ordini cioè non furono costretti da un fattore esterno a eseguire gli ordini e questo secondo me nel canno e lo vogliono far tornare questo aspetto cioè loro ci dicono è vero che i cloni hanno eseguito un ordine imposto quello dell'ordine 66 tramite il chip ma è anche vero che ogni clone ha una sua personalità quindi è anche vero che noi conosciamo il vecchio scorch quindi uno non gli verrebbe da dire che ha quella personalità però magari lo scorch canonico l'hanno voluto fare un bel po più cattivello sul fatto di dire ci sono probabilmente alcuni cloni che hanno piacere seguire gli ordini dell'impero che sono più sadici per esempio cioè e anche questo è interessante perché ci porta la differenziazione fra i cloni cioè non tutti i cloni sono buoni non tutti i cloni sono cioè come non tutti i jedi erano buoni non tutti i cloni sono buoni ed è la cosa che dice crosshair cioè crosshair giustamente proprio a quello si riferisce durante il primo episodio quando parla con omega dice non ti puoi fidare di tutti i cloni non prendiamo il caso dei cloni ricondizionati tipo cx2 che è indottrinato e quello lo sappiamo ed è spietato però se prendiamo il caso di scorch come prendiamo il caso di crosshair prima come prendiamo il caso di wolf come prendiamo il caso di kodi cioè ognuno di loro non ha un condizionamento che gli impone da che parte stare quindi loro scelgono da che parte stare e se non hanno un evento scatenante come è stato per crosshair i cloni l'esperienza come idee come è stato per wolf scoprire che stava dando la caccia a una bambina e soprattutto scoprire questo tramite le parole di un suo amico di rex come è stato per kodi scoprire quello che è accaduto nella seconda stagione cioè ognuno di loro ha avuto un elemento scatenante ma è anche probabile che è un clone che sia un clone commando che sia un clone semplice non abbia avuto questi input ma semplicemente esegua gli ordini perché ritiene che quella sia la cosa giusta da fare e non si pone questioni morali quindi mi piace il fatto che scorcio non sia in almeno fino a quello che sappiamo fino a questo momento non gli sia imposta il fatto di dover seguire gli ordini come i soldi i cloni assassini ma scelga lui quella che è la strada che vuole compiere quindi è anche probabile chi lo sa magari per scorcio non ci sarà mai una redenzione ripeto questa è una cosa che mi dispiacerebbe conoscendo il personaggio però noi dobbiamo rifarci a quelle che sono le vicende canoniche fino a questo momento è possibile che per scorcio non ci sarà un margine di redenzione va bene così nel canone perché si è compiuta quella scelta e questo ti permette di creare una differenziazione tra i cloni questo è il mio punto di vista poi può essere che mi sbagli no ti prego fine basta con questa storia io sto aspettando solo il momento in cui cx2 sarà semplicemente cx2 così la smetteranno tech ancora di ancora ancora ma tecno per cortesia che sarebbe proprio una regressione narrativa ma di quelle proprio potentissime ci stanno mostrando dopo lo scivolone della puntata di ventres ci hanno dimostrato che quando con la scrittura ci sanno fare quando non devono mettere le robe insulse negli episodi cioè questi episodi sono clamorosi a livello di scrittura soprattutto il decimo è bellissimo perciò questa regressione di tech ve lo giuro non avrebbe proprio il minimo senso il minimo senso a mio a mio parere anche perché uno poi deve stare sempre a dire eh ma uno si aspetta sempre che compare cioè questo è essere indottrinati al fanservice perché purtroppo filoni ti indottrina al fanservice perché uno si aspetta sempre la comparsata del personaggio si aspetta sempre che dietro una maschera ci sia qualcun altro vi devo fare nuovamente l'esempio di marrock fortunatamente in quel caso filoni è stato intelligente perché sotto marrock chi c'era marrock secondo me lui magari ci gode anche perché sa come funzionano le cose sa che i fan si fanno le loro teorie ci stanno per carità io sono il primo che quando parte con le teorie non la smette più però secondo me le cose devono essere anche abbastanza fondate cioè obiettivamente il ritorno di tech è proprio una porcata cioè a livello narrativo per me sarebbe una porcata senza ombra di dubbio ciao simone quando quando l'impero è arrivato su pabu sono saltato dalla sedia allora l'arrivo dell'impero su pabu è stata una roba bellissima sia a livello delle ambientazioni e le luci fatto che dal tramonto si sia fatto buio ma la colonna sonora è ma è una delle migliori della della serie accompagnata da quella del decimo episodio quella della del cavo molto inquietante molto stile stranger things ha veramente colpito il decimo episodio è molto profondo e drammatico dice jacopo la scena dove kat bain rapisce il bambino è veramente molto cruda meno male che c'era tutto come linea comica da alleggerire il tutto infatti è una scelta che ho apprezzato secondo me todo è stato messo lì a dire quelle battute no sul droide tata anche per i bambini che guardavano perché non scordiamoci mai anche se noi purtroppo tendiamo a dimenticarlo che star wars è soprattutto un prodotto per i piccini quindi è vero che ci deve essere drammaticità però è anche vero che serve una linea comica che smorzi e devo dire che se non ci fosse stato todo quella separazione dalla madre sarebbe stata molto 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 più straziante però è veramente quel tutto quell'emblema mi ha ricordato il decimo episodio è veramente un'immersione totale nella lore di star wars di quel periodo mi ha ricordato il romanzo a soka terribilmente perché in a soka esiste un altro un'altra questione molto simile ve l'ho parlato nell'analisi mi ha ricordato tante altre opere perché esiste una questione simile anche in dart veder come la 17 e che è molto lì è molto straziante perché ovviamente star soul sa che quei fumetti non li leggevano i bambini è molto straziante comunque anche a me a me ha straziato io veramente eva la bambina ictoci ho passato tutto l'episodio a volevo piangere per lei la volevo abbracciare volevo dire andrà tutto bene ti stavo partendo per wayland volevo prendere un trasporto partire per wayland e salvarla quella poverina perché vi giuro mia mi ha fatto una tenerezza cioè credo che uno dei personaggi più teneri strappacuore che che mi ricordi e credo di aver che sia a livello di penni non so se avete presente i bianche berni cioè penni proprio io non me lo se rivedessi anche berni oggi non lo vedo da tanti anni ma se lo rivedessi oggi il personaggio di penni io piangerei tutte le mie lacrime soprattutto nella scena dell'orfano proprio e eva è riuscita ad arrivare al livello di tenerezza di strappacuore di di penni perché la scena dove lei è tutta impaurita e vede giustamente scorce i cloni commando che che puntano i blaster contro 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 jacks il ragazzo mirialano cioè immaginate cosa deve essere per un bambino per una bambina vedere trovarsi in una situazione del genere strappati alla propria alle proprie famiglie e devo il decimo episodio te lo fa vivere cioè finalmente perché parliamoci chiaro molti prodotti di star wars ultimamente certe questioni non te le facevano vivere al cento per cento invece tu finalmente questi tre personaggi compaiono per la prima volta sullo schermo e tu empatizzi con ognuno di loro con quel ragazzo mirialano ti dispiace quando lo stordiscono ti dispiace quando lo mandano in isolamento la bimba eva empatizzi con lei cioè ti dispiace quando lei pensa che sarebbe tornata a casa quando è arrabbiata con emery car con la sua vocina tenera guardate proprio è stato infatti mi è venuto un magone che voi non potete immaginare questo significa che sono stati bravi cioè non l'anno non è un qualcosa che hanno portato all'esagerazione perché poi sai sapete può diventare anche una cosa stucchevole invece no era tutto perfetto perché in un ambiente simile qualcosa di totalmente realistico te l'aspetti che i bambini abbiano quelle reazioni che siano spaventati che siano impauriti che siano anche disillusi che magari capiscono che per loro non c'è più speranza però comunque ci provano c'è sono veramente tematiche forti tematiche forti vittorio cambiando totalmente discorso che è il sito nel trailer di diacolite allora ci sono molte ipotesi ne ho parlato ovviamente all'interno dell'analisi del trailer ne ho parlato anche all'interno di un altro video e devo ancora pubblicare ma a questo punto non so quando lo pubblicherò penso tra fine settimana prossima in cui parlo proprio di quello che potrebbe essere quel sì di chi potrebbe essere quel sit tra le varie ipotesi quindi edito plegis d'art dene bruce eccetera eccetera rossana secondo me un localizzatore omega ce l'ha addosso il modo in cui ha dato il suo comunicatore a cx2 è stato come un... pigliatelo... anche la reazione non reazione di crosshair nel fallire su questo purtroppo non posso rispondere perché è una questione che si lega a triplo filo con quello che succede nel prossimo episodio quindi non posso dire veramente niente ciao ivan secondo secondo me domanda l'episodio di asoka in tales of the jedi va a collegarsi con tales of the empire per il fattore barris dato che asoka in rebels sapeva degli inquisitori e ne cercava in bimbi rapiti non lo so è vero che filoni asoka è da tanto che non la fa cicciare fuori quindi può essere che gli è venuta la mezza idea sinceramente secondo me no perché ripeto sempre per la questione di vader cioè vader non sa che la sua apprendista è sopravvissuta quindi se asoka avesse incontrato gli inquisitori prima degli eventi di rebels sarebbe stato un po a parte ovviamente quello che succede con il sesto fratello perché il sesto fratello se ne va al creatore come ben sappiamo quindi o incontra gli inquisitori e quindi li elimina oppure non potrebbe mai uscirne con l'inquisitore vivo perché l'inquisitore andrebbe sicuramente a dire a vader della sopravvivenza di asoka e il fattore barris è complesso perché se dovessi pensare a un epilogo per barris la prima cosa che mi viene in mente cioè soprattutto se barris dovesse scoprire l'identità di vader cioè se in qualche modo barris scoprisse che dietro la maschera di vedersi c'è lana king's che walker non ci penso veder non ci penserebbe due volte a farla fuori ma proprio zero tutti i personaggi che hanno scoperto l'identità di vedere a parte alcune eccezioni tra cui c'è anche tron perché lui tron è stato bravo a fare un vedo non vedo non hanno fatto una bellissima fine tipo se avete letto appunto dart vader 2017 saprete che quando un determinato personaggio ha svelato l'identità di vader lui ha preso gli shock trooper che gli stavano vicino e li ha buttati all'aria uccidendoli quindi proprio senza se senza ma quindi se barris dovesse scoprire questa cosa qui secondo me la sua fine potrebbe incorrere proprio tramite vader tra l'altro vader ci ha dimostrato sempre in dart vader 2017 che non ci va per niente leggero con gli acquisitori ma per niente cioè fortezza vader ne ha eliminati due per motivi futilissimi quindi immaginate cosa potrebbe fare con barris e secondo me ci stanno tenendo nascosto l'eventuale terzo corto però io penso entro nella mente di filoni filoni lo conosciamo bene ormai è uno di quei creativi che non riesce mai a dire a ciao e addio ai suoi personaggi quindi ciò significa che li fa comparire in ogni sacrosanto prodotto che lui sviluppa questo significa che secondo voi se barris dopo undici anni l'ha fatta tornare in un prodotto no secondo voi in tre corti numero tre filoni la elimina se fossimo tutti giovanni storti così proprio ma va là impossibile cioè se barris torna se barris adesso è tornata ce la leviamo dai dai cosiddetti almeno tra dieci anni se tutto va bene quindi potete stare sicurissimi e certi che barris non morirà in questi tre corti magari vengo smentito clamorosamente a dire il filoni decide di fare questa roba qua però non è nelle sue corde ecco solitamente i suoi personaggi li fa morire solamente se poi li può riportare nel passato cosa ha fatto con con morgan elsbeth morgan l'ha fatta morire in asoka no problem e poi ci ha provato cioè ci ha presentato un altro prodotto in cui ci mostra il suo passato e ci sta cad bain tutti quanti che si lamentavano che fosse morto in the book of boba fett ma cad bene in the book of boba fett ha 70 anni quindi lui ha detto io lo faccio morire lì e poi lo riporto in tutti i prodotti precedenti che voglio the bad batch altre serie animate che verranno cioè cad bene un personaggio che te lo puoi giocare nel passato senza problemi perché sai che muore il 9 by dove giocare morgan elsbeth la puoi giocare barris è un po più complesso perché perché barri con barris puoi andare solo avanti perché barris è un personaggio che nasce nel passato cioè barris nasce ovviamente l'abbiamo già vista in episodio 2 però barris ha il suo fulcro all'interno di the clone wars quindi è un personaggio in cui con cui non puoi andare indietro puoi andare solo avanti è solitamente quando filoni ha un personaggio con cui va avanti non si ferma facilmente possiamo stare sicuri e certi del fatto che barris rimarrà lì tanto vi recupero perché sono indietro di un'oretta con i commenti quindi vi recupero un po' tf buonasera a te la tua opinione la mia ovviamente sulle serie animate secondo me danno un'idea che in futuro i prodotti animati saranno sempre più frequenti noto che anche la grafica sta migliorando allora caro tf io ovviamente sono amante dal dall'anno zero dei prodotti animati di star wars sono uno di quei pochi highlander che seguiva prodotti animati da tempo immemore sono contento che finalmente stiano ricevendo l'attenzione che si merita non sono contento che siano rimasti veramente pochissimi quei fan di star wars che reputano i prodotti animati dei prodotti per bambini oppure dei prodotti fatti male perché ci sono state anche queste critiche la qualità grafica che si sta che si è raggiunta è ineccepibile è veramente una roba pazzesca questo trailer a livello grafico per me è proprio l'emblema della perfezione cioè veramente vi giuro tutti i modelli grafici stratosferici a partire da tron e a finire da grievous grievous è meraviglioso meraviglioso all'epoca ricordo vi ricordate quando grievous comparve nel trailer di the clone wars 7 all'epoca dissi non riuscirei a distinguerlo quando quando gli fecero ovviamente l'inquadratura agli occhi al viso la prima cosa che pensai non riesco a distinguerlo da quello di episodio 3 se prendete il trailer di the clone wars 7 che comunque a livello qualitativo anche lì altissima l'animazione e lo ponete con la stessa inquadratura di grievous del trailer di tales of the empire vi rendete conto di quanto sia aumentata ancora la qualità quindi io credo che nel futuro sarà sempre più preponderante e spero che mantengano questo stile grafico di the clone wars perché secondo me è il migliore cioè non c'è proprio non ci sono proprio paragoni una cosa che però vorrei che mi piacerebbe per il futuro è che ci fosse un po' meno monopolio nel senso che è vero che il team creativo di cui filoni ovviamente è il capo supremo è rodatissimo cioè se a filoni e al team creativo delle serie animate gli dai di commissione una serie animata loro dopo un anno già te la preparano perché hanno tutti i modelli pronti tutti i design pronti sanno perfettamente come lavorare cioè ormai è un team talmente rodato che ti potrebbero tirare fuori anche quelle due o tre serie animate a ripetizione e sono sicuro che dopo quando si concluderà da bad batch faranno un annuncio sicuro sicuro mi gioco tutto perché sono rodati però mi piacerebbe che ci fosse un po' più di cioè che venga affidata anche ad altre persone cioè che le serie animate vengano affidate anche ad altre persone ad altri creativi ad altri registi ad altri scrittori ci sono gli esperimenti che hanno fatto con visions per me sono esperimenti riuscitissimi cioè affiderei a delle case di animazione esterne anche una serie animata intera non mi dispiacerebbe affatto però al momento diciamo che lì c'è un po' un monopolio però è probabile che filoni considerando il fatto che già da bad batch si è defilato salvo le sue scelte scelerate purtroppo delle quali sono succubi purtroppo gli scrittori e i registi spero che anche in futuro possa defilarsi ancora di più perché adesso ha un ruolo più importante in lucasfilm e quindi anche il comparto animato possa passare anche attraverso altre mani oltre alla sua quindi questa è la mia speranza per il resto veramente che ci nondino di serie animate perché ne abbiamo bisogno soprattutto che ci nondino di serie animate in periodi differenti quando ho visto quando ho visto l'epoca della nuova repubblica animata con lo stile di The Clone Wars ho detto vi prego vi scongiuro voglio una serie animata con lo stile di The Clone Wars ambientata nel post-endor ti prego filoni visto che non mi fai mai regali anzi mi fai solo piangere fammi questo regalo per cortesia ah ecco The Gornation si è collegato dopo quindi sì l'ho detto all'inizio mi hanno inviato gli episodi di anteprima tranne il finale e quindi sono purtroppo votato di nuovo al silenzio mi dispiace perché è stato bello nella scorsa live poterne parlare liberamente visto che non ero vincolato a niente purtroppo adesso sono costretto al silenzio però ci sono cose interessanti di cui abbiamo parlato e parleremo adesso vi sto recuperando giustamente Lisa sono preoccupatissimo per la presenza di Throne mamma mia Simone ciao buonasera a te non vedo l'ora di vedere Barris allenata dal grande inquisitore appena ho visto Vader sono saltato dalla felicità anche io sono molto curioso perché mi piacerebbe vedere finalmente mi piace vedere un addestramento degli inquisitori dal diciamo dal vivo più o meno anche perché quelli che avevamo avuto in Darth Vader 2017 erano abbastanza brutali e questo non si non sembra da meno perché insomma il grande inquisitore si dà il suo bel da fare Simone in Star Wars Labels la prize non è gram off da quel che si sa ma quella da gram off sì come vi dicevo la questione mostrine potrei stare fino a domani a parlarvi degli errori con le mostrine che ho riscontrato nel corso di una marea di insomma di prodotti è un qualcosa che tendo sempre a a chiudere un occhio Caleb a me nella scena tra Emery e Nalase da come si esprimevano sul potere hanno dato l'idea che la stessa Emery fosse sensibile alla forza no guarda quella scena lì secondo me Nalase si voleva rivolgere più al fatto che Emery aveva del buono in sé cioè nel senso di dire tu hai il potere cioè nel senso adesso hai il potere perché sei scienziata capo allo stesso tempo sei scienziata capo e comunque Nalase probabilmente si accorta che Emery ha delle ha delle remore ha dei ripensamenti nei confronti di quello che è il lavoro che stavano conducendo lì quindi secondo me in quel caso Nalase si riferiva al potere cioè lei dice tu hai il potere su quella struttura sul cavo e hai quindi il potere di far scappare quei bambini quindi mi riferivo sicuramente lei si riferiva a questo la sensibilità alla forza dei cloni è da vedere ripeto perché Omega ok mi sta bene come caso più unico che raro però sugli altri cloni la questione di MidiClorian è complessa perché se abbiamo detto che il progetto Necromante la difficoltà del progetto Necromante era replicare nei corpi clonati i MidiClorian e se è vero che in tutti gli esseri viventi scorrono i MidiClorian questo probabilmente non vale per i cloni perché i cloni nonostante siano assolutamente degli esseri come posso dire non sono degli oggetti ci mancherebbe altro però allo stesso tempo dal punto di vista della forza probabilmente vengono visti come un'aberrazione quindi è probabile che invece i cloni non abbiano i MidiClorian però fino a questo momento il canone tace quindi spero che si rendano conto del fatto che se stanno proseguendo la questione del progetto Necromante e la difficoltà di instillare i MidiClorian nei corpi clonati si rendano conto che non possono certo dire che un intero esercito di milioni di cloni siano sensibili alla forza come tutti gli esseri viventi sarebbe un controsenso abbastanza clamoroso Enrico secondo te ci sarà un finale ben preciso o sarà un finale che ricondurrà ad altro spero che ci sia un finale vero anche io lo spero tanto perché sinceramente mi darebbe abbastanza fastidio se ci fossero rimandi al fatto di proseguire io credo che sarà vero in entrambi i casi cioè da un lato sarà sicuramente un finale chiuso per determinati personaggi probabilmente dall'altro sarà inevitabilmente un finale aperto perché sicuramente dal mio punto di vista adesso sto pesando bene le parole che devo dire però sono abbastanza sicuro la mia speranza è che le questioni di Tantis possano arrivare ad una conclusione questa è la mia speranza con quello che posso dire quindi se le questioni di Tantis arriveranno a una conclusione mi riterrò soddisfatto dal punto di vista che la serie di Bad Batch sarà chiusa che è il fatto che poi Omega debba sopravvivere sicuro perché lo sappiamo i progetti su Omega sono tanti Omega è un personaggio che è destinato ad apparire in tante altre serie quindi da quel punto di vista poi le questioni di Omega non finiranno certamente perché dovrà proseguire il suo viaggio all'interno dell'universo di Star Wars però se intendiamo che la serie di Bad Batch incentrata sulla Clone Force 99 possa concludersi allora lì secondo me le probabilità sono alte ripeto non dico nulla in base a quello che ho visto però però c'è un elemento importante secondo me di cui tener conto che è quello della Marauder secondo me ha molto significato il fatto che la Marauder sia stata distrutta non è come quando fu distrutta la Resort Crest secondo me la distruzione della Marauder rappresenta veramente una chiusura perché la Marauder rappresentava non solo un'astronave ma era la casa della Clone Force 99 era il loro rifugio era il loro porto sicuro eccetera eccetera il fatto che la Marauder sia stata distrutta forse vogliono dirci qualcosa no? vogliono farci capire che probabilmente il viaggio della Bad Batch per come la conosciamo sta finendo quindi se dovesse essere questa la conclusione poi ripeto che i personaggi muoiono meno secondo me sarà indifferente rispetto al fatto che ci vogliono dire le vicende della Bad Batch della Clone Force 99 sono concluse stop allora in quel caso la serie si potrà dire finita con un finale chiuso però ovviamente ci saranno una marea di linee narrative aperte questo è vero io ho sperato ho sperato che Filoni si sia ricordato che tra tutte le persone che non rispetta tra tutti gli autori che non rispetta nel cartaceo forse Zanno lo rispetta un po' di più quindi la speranza è proprio quella la speranza che si sia ricordato del buon Timothy Jacopo Gaetano secondo te potrebbe comparire Bill & Scholl in uno dei corti di Morgan & Elspeth o magari braccato da Barris per me sarebbe un'ottima apparizione sarebbe ottima e sarebbe consona soprattutto perché sarebbe un buon omaggio sarebbe un buon omaggio anche perché ripeto è un personaggio che nonostante proseguirà le sue vicende nonostante quello che purtroppo è accaduto a Ray Stevenson è un personaggio che comunque è destinato a dire ancora tanto nel presente della serie Soka però nel passato che la può giostrare bene soprattutto in una serie animata ovviamente il doppiaggio dovrà cambiare però potrebbe essere un ottimo modo per narrare anche quelle che sono state diciamo quello che è stato il passato di Baylan dopo essere sopravvissuto all'ordine 66 il fatto che ci venga mostrato il passato di Morgan & Elspeth mi fa molto molto piacere da questo punto di vista quindi mi farebbe piacere anche vedere il passato di Baylan magari in questo caso ce lo fanno vedere diciamo a spezzoni e poi in un prodotto futuro si concentreranno di più Buonasera Emma La quarta sorella in live action in Kenobi stava sullo sfondo muta verissimo ora sembra essere un pezzo grosso dell'Inquisitorius mi fa piacere il fatto che sia ripeto che sia in auge tra virgolette e ovviamente non è che sarà tutto questo pezzo grosso però probabilmente avrà molto a che fare con Barris cioè credo ho immaginato questa è una mia ipotesi ho immaginato che abbia preso Barris sotto la sua ala protettiva tra virgolette perché è stata lei è andata a liberarla dalla prigione è stata lei lei è presente quando affronta la prova con quell'altro pretendente che è ovviamente un personaggio inedito tra l'altro appartenente a una specie molto particolare che mi è piaciuta questa scelta ve ne parlerò poi ve l'ho parlato all'interno dell'analisi del trailer che volevo dire è presente poi cioè Barris la raggiunge quando stanno sono andate a caccia di quella Jedi sopravvissuta cioè è molto ricorrente quindi secondo me la quarta sorella probabilmente ha preso Barris sotto la sua ala protettiva questa è stata la mia ipotesi vedremo secondo te dice sarà più bello Tales of the Empire rispetto a Tales of the Jedi oppure no per il semplice motivo delle riscritture ti direi che sarà più bello bisognerà capire le emozioni che ci trasmetterà Tales of the Jedi me ne ha trasmesse molto molto poche a prescindere dalla questione delle riscritture non mi ha trasmesso tantissimo soprattutto perché su Filoni soprattutto per quanto riguarda Ahsoka mi è sembrato molto impostato forse l'unico episodio che è un po' più mi ha lasciato qualcosa è stato quello dell'addestramento di Anakin che poi praticamente l'addestramento che le ha salvato la vita con l'ordine 66 per il resto del sesto episodio non voglio nemmeno parlare gli episodi di Dooku anche non mi hanno lasciato molto l'unico episodio che mi ha lasciato qualcosa è stato quello con Quagon perché ho potuto apprezzare ancora una volta che grande persona fosse Qui-Gon Jin ed è stato veramente fantastico il fatto che ci abbiano mostrato quanto Qui-Gon fosse già molto molto maturo anche rispetto al suo maestro quindi quell'episodio mi ha lasciato qualcosa di importante secondo me questi episodi potrebbero lasciarci tanto soprattutto quelli di Morgan non lo so vedo che hanno potenziale e anche perché l'ordine 66 è un qualcosa che abbiamo vissuto sotto mille punti di vista diversi invece è interessante capire scoprire un altro punto di vista della battaglia di Dathomir e quindi del massacro delle sorelle della notte perché è come se fosse un ordine 66 dal punto di vista delle sorelle della notte e l'ordine 66 l'abbiamo apprezzato anche perché l'abbiamo visto sotto mille punti di vista differenti e il fatto di poter vivere quell'esperienza dal punto di vista di Morgan secondo me potrebbe dare quel qui di in più potremmo vedere la morte di madre Talsin la morte di madre Talsin l'abbiamo vista in figlio di Dathomir il fumetto però sappiamo quanto conti per Filoni tra l'altro anche figlio di Dathomir come l'apprendista del lato scuro è stato diciamo apportato diciamo ha adattato degli archi narrativi mai compiuti di The Clone Wars quindi non è tanto improbabile che Filoni ci faccia vedere poi la morte di Talsin però in quel caso dovresti scomodare anche Maul e credo che non ci sia spazio per lui e per madre Talsin all'interno delle vicende di Tales of the Empire posso affermarlo senza problemi che è un gran figlio molto interessante Jacopo ne ho parlato all'interno credo di averne parlato all'interno dell'analisi non lo ricordo l'ho registrata praticamente qualche ieri sì ne ho parlato ne ho parlato allora la questione luminare è molto interessante perché perché noi sappiamo che luminare è sopravvissuta all'ordine 66 però poi è stata presa subito è stata subito catturata dall'impero che è successo? è successo che il grande inquisitore l'ha eliminata nella sua cella stardata veramente come un po' in gabbia l'ha eliminata nella sua cella e poi ha tenuto il corpo per scopi futuri e abbiamo scoperto in Rebels per quali scopi sarebbe molto interessante più che un confronto diciamo in combattimento fra luminare e barris che sì ci potrebbe stare però non lo so sarebbe molto interessante forse sarebbe molto più straziante vedere luminare che è stata già catturata dall'impero e il fatto che ad assistere alla sua esecuzione in cella ci sia proprio barris cioè un conto è che barris si scontri con la sua ex maestra più o meno ad armi pari e quindi sia poi lei a catturarla magari vi sto dicendo una roba come dice ad esempio Jacopo un conto potrebbe essere come prova no del fatto che barris ormai è passata al lato scuro eccetera eccetera una prova ancora più straziante potrebbe essere il fatto che ad assistere il grande inquisitore nell'esecuzione di luminare ci sia proprio barris quello è un punto su cui ho riflettuto che potrebbe essere una bella botta non non penso che lo faranno però potrebbe essere una bella botta adesso leggo i vostri commenti ricca giustissimo riccardo anche l'età gioca un fattore determinante ad esempio Zin Mrala l'alta repubblica è potentissima nella forza ma non viene addestrata perché è troppo grande per i Jedi è giustissimo tra l'altro è anche possibile ad esempio che ne so che appunto questi ragazzi tipo il ragazzo mi immagino il ragazzo Mirialano che è stato scoperto in tardetà ma non è non ha mai potuto seguire un addestramento per esempio ci sono veramente tante tante ipotesi lo stesso Anakin lo sappiamo tra l'altro questa è una regola piccola chicca visto che ogni tanto vi parlo sia del Legends che delle opere canoniche questa è una regola che fu istituita dopo la battaglia di Rusan perché fino a molto tempo prima i Jedi venivano addestrati anche se non erano rettamente solo bambini però sono altre questioni di un passato ormai lontano anche Uyang in Asoka fa un discorso sullo scarso talento di Sabina mi immagino Miss Windu schifato l'idea di addestrare Sabina è verissimo caro Jacopo cioè Uyang quando parla con Sabina è un po' è un po' l'Uyang datato no? L'Uyang che dice le sta praticamente dicendo se l'ordine Jedi esistesse ancora non ti avrebbero mai presa per addestrarti cioè è brutto da dire ma è così è così perché probabilmente i livelli di midi-clorian di Sabina sono bassi ma non era solo quello cioè c'era tanto altro nella nella sfera di influenza del fatto che i Jedi per i quali per cui i Jedi sceglievano chi addestrare e Uyang lo dice chiaramente cioè lo dice se la meno dotata che io abbia mai visto questo significa indirettamente che se l'ordine esistesse ancora come erano le sue regole di un tempo non ti avrebbero mai addestrata importantissimo o tra l'altro ci sono altri commenti interessanti di Riccardo ad esempio questi i Jedi prendevano volentieri gli orfani vi dirò di più oltre a prendere magari spesso sotto l'ala protettiva determinate personalità anche e soprattutto i più bisognosi c'era anche capitava spessissimo che magari all'interno dell'ordine ci fossero delle persone che non superavano dei Jedi o meglio degli allievi che non superavano le prove quindi poteva capitare spesso molto spesso che o venissero rispediti a casa poteva succedere oppure rimanessero per servire l'ordine in altri modi c'erano tantissimi altri corpi che potevano che potevano essere serviti da queste persone che pur non utilizzando la forza potevano essere utili quindi come vedete c'è veramente un ventaglio di possibilità enorme la possibilità che ci siano forse user potenti ma che non usino la forza o che la usino solo in determinati modi come ad esempio per meditare anche il culto che abbiamo visto su Bardotta in The Clone Wars che poi viene approfondito anche nell'Alta Repubblica utilizzava la forza soprattutto per meditare quindi ci sono veramente talmente tante di quelle strade percorribili che reputo veramente semplicistico continuare sempre solo a riferirsi ai Gedi non perché i Gedi sono una roba che non smetterà mai di avere fascino però bisogna anche essere consapevoli del fatto che i Gedi non sono la forza questo è se entri nella concezione che i Gedi non è uguale a forza anzi forza non è uguale a Gedi ti si apre un mondo e un ventaglio di possibilità che prima non avresti vagliato quindi spero di riuscire ad arrivare a più fan possibili con queste mie parole perché sono anni che professo questa religione dell'apertura della forza che vada oltre il Gedi sì The Gornation chiede se possiamo aspettarci un So Guerrera a rigore di logica appunto perché non posso dire niente non lo so allora il problema è che So già ha fatto ha dato problemi su Eriadu nella seconda stagione cioè vederlo ricomparire di nuovo e dare altri problemi sarebbe veramente non lo so un po' strano io penso che So è uno di quei personaggi che te lo sei giocato in The Bad Batch e basta cioè non è necessario giocartelo sempre è tra l'altro è uno di quei personaggi che più si giocano all'interno di tanti prodotti l'abbiamo visto in The Bad Batch l'abbiamo visto in Rebels l'abbiamo visto in Fallen Order basta cioè nel senso l'abbiamo visto in Undor cioè ci sono prodotti in cui consono vederlo apparire più volte tipo in Undor mi aspetto che appaia ancora ovviamente però per The Bad Batch direi che va benissimo così Valerio cosa mi aspetto dal futuro di Omega diventerà l'apprendista di Ventress basta non è molto probabile cioè nel senso tra i vari personaggi papabili con cui Omega potrebbe ritrovarsi dopo la Bad Batch se dovesse separarsi per vari motivi dalla Bad Batch mi aspetto che Ventress a questo punto possa essere uno dei nomi più gettonati anche perché si sono incontrati si sono connesse si è creato un legame quindi diventare l'apprendista cioè nel senso potrebbe diventare l'apprendista dal punto di vista più generico non proprio apprendista dal punto di vista della forza potrebbe aiutarla nel diventando una cacciatrice d'Italia eccetera eccetera però non esco ripeto non diamo sempre per scontato il fatto che Omega userà la forza anche se io conosco i miei polli e so che accadrà però voglio continuare a non darlo per scontato quindi credo che ventress possa prendere Omega sotto la sua alla protettiva poiché utilizzi la forza o meno lo scopriremo infatti sempre per rispondere a questa domanda secondo te diventerà una cacciatrice d'Italia è una strada molto probabile secondo me perché un personaggio come Omega me la vedo come cacciatrice d'Italia quanti anni avrebbe nel periodo di una nuova repubblica dipende dipende dal periodo se pensiamo al Mandovers dovrebbe avere circa 40 anni 41 anni se pensiamo perché lo sapete è nata più o meno nel 32 BBY quindi dovrebbe averne 41 se invece ci avviciniamo più alla trilogia sequel ovviamente l'età avanza però la cosa su cui possiamo star tranquilli è il fatto che comunque Omega non ha l'invecchiamento accelerato quindi è come se fosse nata nel 32 BBY e quella sia la sua data di nascita quindi non ci sono problemi di sorta sì è vero anche RIT non era molto dotato e infatti diciamo lui preferiva molto molto di più fare il topo da biblioteca Alessandro se dopo la caduta dell'ordine non potevano più essere addestrati i Jedi nessuno ha mai detto questo come possono essere considerati i Jedi personaggi come Ezra Luke Sabine e Rey a prescindere dall'addestramento allora qui entra in gioco sempre la stessa questione dei Sith allora l'essere Jedi o l'essere Sith fa parte di un ordine quindi è vero che l'ordine Jedi non esisteva più però nulla rispetto e con i Sith era molto diverso perché i Sith erano molto più conservatori i Jedi invece cioè la speranza che l'ordine Jedi rinascesse divampava cioè nel senso non c'era un Jedi oddio c'erano molti Jedi ci sono stati molti Jedi sopravvissuti che puntavano al fatto che l'ordine non dovesse tornare però c'erano altri Jedi che invece volevano che l'ordine tornasse a fiorire e anche lo stesso Luke aveva pareri contrastanti perché aveva iniziato col fatto di volerlo ripristinare poi aveva tutto quello che era successo e aveva cambiato idea però tutto parte dal presupposto che nessuno vietava ad un personaggio di essere addestrato come Jedi cioè l'essere addestrato come Jedi significava imparare determinati concetti determinati precetti determinati poteri determinate determinati modi di intendere la forza e come dire adesso sto facendo un esempio molto generico e metaforico però è come dire non lo so io voglio studiare per diventare ingegnere sto facendo un esempio assolutamente metaforico sì ho capito basta con queste notizie dicevo voglio diventare adesso non so nemmeno io in quale esempio mi sto impelagando però spero che mi capiate voglio diventare ingegnere un giorno per qualsiasi motivo tutte le università di ingegneria non lo so si distruggono non esistono più università dove si può studiare ingegneria però ci sono degli ingegneri sopravvissuti che vogliono insegnare l'ingegneria ad altri ragazzi nulla vieta a questi ingegneri sopravvissuti di insegnare loro e nulla vieta a questi ingegneri di essere definiti tali nonostante magari non si fossero laureati cioè non ci sia la carta il pezzo di carta che ti dice che sei laureato però con tutte le determinate conoscenze puoi comunque definirti ingegnere sempre ripeto adesso non è che gli ingegneri mi diranno Gietano dice che si può fare l'ingegnere anche senza laurea no non sto dicendo questo semplicemente sto dicendo che in casi estremi in cui le università di ingegneria venissero subissero un ordine 66 in quel caso lì se tu hai tutte le conoscenze di un ingegnere in una situazione di emergenza puoi definirti un ingegnere ci mancherebbe altro per i Gedi era più o meno lo stesso adesso perdonate questa mia metafora che si può fare tra l'altro con tutte le professioni cioè l'essere Gedi non è che era un bollino l'essere Gedi è un emblema di tante cose insieme di precetti che tu rispettavi oltre alle questioni del codice di particolari poteri che imparavi ma nemmeno la questione dei poteri passa veramente in secondo piano perché non è che tutti i force user utilizzassero gli stessi poteri c'erano alcuni che sapevano fare delle cose e altri che sapevano farne altre c'erano poteri innati c'erano poteri che molti non riuscivano ad utilizzare che altri invece riuscivano ad utilizzare l'essere Gedi si riduce veramente a seguire una serie di concetti e quindi questo è l'importante di essere Gedi perciò quei personaggi lì possono definirsi dei Gedi come altri personaggi come Ahsoka ad esempio nel corso della sua vita si è definita Gedi poi non si è definita più Gedi cioè sono comunque scelte anche scelte personali cioè il fatto di Ahsoka di dire l'ordine mi ha deluso io non voglio seguire le vie dei Gedi da determinati punti di vista quando lei quindi dice io non sono una Gedi se sento il bisogno e la possibilità di vendicarmi voglio farlo senza problemi e non voglio comunque sentirmi costretta alle questioni riguardanti il passaggio nel lato oscuro cioè è un discorso molto complesso però tutto tutto quello che noi secondo me dovremmo un po' disintossicarci tutti adesso sto dicendo una cosa fortissima però capitemi dovremmo disintossicarci tutti dai film cioè perché i film di Star Wars che rimangono il perno assoluto ti dicono determinate cose ma sono cose molto assolutistiche l'universo di Star Wars in generale invece è molto più aperto da certi punti di vista e soprattutto ti fa capire che non solo i Sith vivevano di assoluti ma anche i Jedi avevano molti dogmi su cui poi loro stessi erano caduti quindi è un discorso complesso è un discorso complesso però tutto questo per dire che se una persona riceveva un determinato addestramento e voleva definirsi Jedi non poteva venire uno a dirgli tu non sei un Jedi non è la stessa cosa per i Sith era diverso perché i Sith ripeto avevano una conoscenza molto più conservatrice e c'erano state molte persone che si erano proclamate Sith ma che erano impostori e infatti Pippo mi hai anticipato proprio perché si dice Pippo diceva nel gruppo è nata una discussione se Sabine si potesse considerare Jedi come appartenente all'ordine per collegarmi il tuo video sui Sith si può applicare in senso inverso sui Jedi assolutamente sì tra l'altro Sabine si può definire una Jedi se viene addestrata da Sokalevie dei Jedi sì si può definire una Jedi dell'ordine no perché l'ordine non esiste l'ordine Jedi non esisteva all'epoca l'avrebbe rifondato Luke in quel caso ma all'epoca un ordine Jedi in sé per sé non esisteva però Sabine può essere definita una Jedi può essere definita una Jedi che segue i dettami dell'ordine o alcuni dettami dell'ordine perché comunque è pur vero che quei dettami sono sopravvissuti in qualche modo volente o nolente Ahsoka che comunque si era sempre distaccata dalla visione dei Jedi anche lei cioè tutti i padawan e tutti i Jedi sopravvissuti sia coloro che volevano distaccarsi sia coloro che non volevano farlo avevano comunque sempre la come posso dire le loro tradizioni vi faccio un altro esempio questo è molto più calzante una persona che si professa agnostica soprattutto in Italia in Italia lo sappiamo diciamo la religione cattolica rispetto agli altri paesi l'Italia non è che si possa definire tanto stato laico la nostra costituzione dice che l'Italia è uno stato laico però sappiamo che diciamo la chiesa cattolica è più predominante sulla vita quotidiana ci sono tante tradizioni della nostra cultura italiana che si basano sulle festività le festività religiose tutte queste cose qua anche una persona che nel proprio percorso di vita si definisce a un certo punto agnostica non credente eccetera eccetera volente o nolente sarà comunque inglobato all'interno di un sistema basato sulla religione vi faccio un esempio una persona che va a un matrimonio ok un matrimonio religioso classico una persona agnostica va a un matrimonio entra in chiesa ovviamente porta rispetto perché la prima cosa è portare rispetto verso tutti i credi e verso tutte le religioni nonostante non si professi anche nulla però allo stesso tempo entra tra virgolette in contraddizione con se stessa cioè dice sono entrato in chiesa però mi reputo agnostico e quindi un qualcosa che non avrei fatto ma ripeto ci sono tantissimi altri esempi le festività religiose oppure delle cose che sono ancorate nella nostra tradizione per i gedi era lo stesso cioè Ahsoka è nata all'interno del tempio sto parlando in maniera lo so benissimo che non è nata nel tempio cioè nel senso Ahsoka era talmente piccola quando è arrivata al tempio come tantissimi altri aspiranti i gedi che sono diventati poi i gedi che la sua forma mentis per forza di cose era assolutamente inglobata sulla vita da gedi quindi anche se Ahsoka ha tentato nel corso della sua vita di allontanarsi da quello che da quelle che erano quelle prerogative erano insite nella sua personalità cioè era impossibile liberarsi da quella sua personalità al cento per cento perché era nel suo sangue nelle sue tradizioni nei suoi ricordi nel suo passato cioè è un concetto difficile da è difficile per un gedi che praticamente ha vissuto tutta la sua vita al tempio cambiare totalmente al cento per cento guidiamo la carica dei cloni contro tantiss sto recuperando dai ci siamo quasi Rossana posso dire che mi sta dando un po' fastidio questo improvviso buonismo di Nala Se io non dimenticherò mai quello che ha fatto a Fives effettivamente Nala Se è sempre stata una gran B con la B maiuscola all'epoca lei capito perché lei adesso giustamente lo vive sulla sua pelle quel disagio perché all'epoca bella tronfia diceva ma cosa potrà mai succedermi e invece sta vivendo sulla sua pelle tutte le conseguenze anche di quelle sue scelte e di quella del fatto di essere complice perché Nala Se Nala Se sapeva del chip questo è un qualcosa che sfugge però Nala Se sapeva del chip probabilmente sapeva dell'ordine 66 forse non ne conosceva la portata al cento per cento ma Nala Se sapeva però per il dio denaro per tante prerogative per il fatto che i Caminoani sono sempre stati un popolo che non se ne è mai non gli è mai importato niente del resto della galassia non ha reagito invece adesso sembra che stia cambiando però giustamente Rossana non ti biasimo per questo giustamente dici sto buonismo che lo vuoi tirare fuori adesso non inganni nessuno cioè nel senso è come se ti stai ti stai redimendo chi si redime in punto di morte sono d'accordo cioè nel senso però allo stesso tempo meglio tardi che mai se Nala Se crede davvero quello che pensa cioè finalmente ha un po' più di empatia nei confronti degli altri tanto di guadagnato Stefano ho avuto un'illuminazione Emlock usa bambini perché potenti nella forza ma ignari di cosa sia e questo è giustissimo tra l'altro l'ha detto lui stesso all'interno dell'episodio e l'ho detto anch'io nell'analisi dell'episodio perché ho ribadito che sarebbe era molto più facile giustrare dei bambini ignari di ciò di cui erano capaci che non nel caso in cui avessero catturato per esempio anche un Padawan addirittura uno Youngling che aveva ricevuto un addestramento sarebbe stato molto difficile riuscire a contenerlo quindi Emlock era ben consapevole di questa questione poi nella seconda parte del commento Omega conosce benissimo la forza beh oddio non la conosce proprio bene sa combattere e ha avuto un minimo di addestramento adesso leggo un attimo il commento il sangue di Omega è simile ai Midi-Clorian se Emery le fa una trasfusione lei potrebbe fare un sacco di danni a Tantis la vedo un po' strana cioè nel senso molto particolare partiamo dal presupposto che Omega non conosce benissimo la forza anzi l'ha detto anche il suo confronto con Ventress quando quando Ventress ha detto la questione dei Midi-Clorian no? ovviamente la Bad Batch ha subito collegato ai Jedi e Omega tutta contenta quindi sono una Jedi Omega non sa assolutamente niente della forza sa combattere sì questo è vero perché l'è stato insegnato un minimo di addestramento ce l'ha però ha un addestramento nel combattimento non un vero e proprio addestramento da force user quello non ce l'ha e anche la questione della trasfusione non lo so perché non è che non lo so perché Stefano però ho pensato tipo a Omega che si fa di steroidi e diventa subito fortissima una force user da da 30.000 Midi-Clorian a cellula sarebbe una roba molto molto trash dal mio punto di vista non perché ovviamente non mi riferisco alla tua ipotesi ma al fatto che la vedo un po' strana perché io una cosa che vi ho sempre detto in Star Wars i poteri delle persone non funzionano come ad esempio in Dragon Ball no? non ci sono livelli di potere cioè non è che se tu fai una trasfusione di Midi-Cloriani in Omega cioè che ne so Omega per qualche motivo ha 4.000 Midi-Clorian per cellula ok? se gliene metti 40.000 non è che ti diventa Star Killer e ti prende gli Star Destroyer e te li butta per terra tra l'altro a proposito di questo tra qualche giorno uscirà anche un divertente articolo non è così che funziona cioè Omega potrebbe avere anche 100.000 Midi-Clorian per cellula ma non è detto che poi riuscirebbe a sfruttare la forza cioè capisci? i Midi-Clorian sono sempre un qualcosa di potenziale ed è diverso cioè il fatto che tu abbia nel sangue un certo numero di Midi-Clorian ti permette di avere magari un talento innato però poi non ti dice che tu poi li sai anche sfruttare questo è il motivo per cui ti serviva l'addestramento è il motivo per cui Ventress dice che hai bisogno di un addestramento Ahsoka dice che hai bisogno di un addestramento qualsiasi personaggio ti dice che hai bisogno di un addestramento perché tu puoi avere anche un milione di Midi-Clorian per cellula ma se non ti addestri nella forza in maniera giusta non riuscirai mai a utilizzarli al meglio al 100% quindi ecco perché ti dicevo che l'ipotesi è improbabile tipo un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente adesso stavo leggendo i commenti non so perché ho pensato a ho pensato a Luffy su Thriller Bark no? mi sono immaginato Omega che diventa enorme e fa tipo diventa un gigante e fa danni su Tantis non lo so perché però sì sono cose che ovviamente non potrebbero mai accadere proprio per quello che ti dicevo che bello accitiamola assolutamente parlando di cose serie di geni che parlano con gli animali e che hanno comunque una grande affinità con le altre creature citiamo Liz di Young Jedi Adventures altro personaggio tenerissimo questo è vero utilizzare personaggi che già sai che moriranno è controproducente dice Gornation perché si rischia di appiattirli per il plot armor ed è proprio il motivo per il quale ho rispettato e ho amato molto come vi dicevo nella quando nella live dedicata anche a Diacolite e al trailer sul fatto che abbiano scelto di portare un solo personaggio dell'Alta Repubblica nella serie quindi Vernestra perché portarne altri poteva risultare veramente pesante e già su Vernestra sappiamo che in qualche modo nella terza fase sopravvivrà cioè nel senso qui già un personaggio ce lo siamo giocati dal punto di vista delle emozioni se dovesse avere degli scontri importanti per Cad Bane ad esempio sono d'accordo se magari Cad Bane si trova ad avere altri scontri importanti cioè nel senso magari combatte contro un altro personaggio la sua fine inedita tra virgolette cioè non ci viene mostrata però noi già sappiamo che sopravvive in quel caso sì però ad esempio nel caso come nell'apparizione di The Bad Batch che lui ha assunto solamente il ruolo di cacciatore di taglie di valori di obiettivi con valore M alla fine non è che non è che ti immagini Cad Bane che prende questo bambino che non ha nemmeno probabilmente due anni e muore scivolando con una buccia di banana alla fine è una missione che poteva svolgere senza pericoli quindi in questo caso il plot armor non ha senso di esistere perché non c'è mai un pericolo reale per il personaggio quindi se non ci sono pericoli reali e il personaggio magari fa il suo lavoro e viene inserito in questo senso mi sta comunque bene sì Grievous animato è veramente a un passo dall'evaction cioè una roba clamorosa il grande inquisitore anche non l'ho nominato ma un design bellissimo Elisa chiede quanto dura l'analisi del trailer ogni tanto dici una cosa che ci hai messo ma vi giuro ho parlato di una marea di robe nell'analisi del trailer allora di quel clan che vi dicevo il clan della montagna tutte le questioni di Barris la questione di Luminara la questione di Tron praticamente ho parlato cinque minuti solo della mostrina d'ammiraglio di Tron santo cielo la questione la mia preoccupazione per Ilai Vanto e Karim Faro cioè veramente ce n'è di robetta poi come al solito sapete che non riesco mai a trattenermi molto interessante questa questa ipotesi dice Riccardo se Emery fosse un tentativo fallito di creare Omega da parte di Nalase probabile magari Nalase per qualche motivo che noi ancora non sappiamo voleva creare Omega in una determinata maniera magari Emery perché Emery l'ha detto chiaramente che Nalase praticamente l'aveva gettata via come se fosse un oggetto a questo punto però ovviamente Nalase deve aver creato Emery stabilito che non le interessava e comunque le ha dato l'invecchiamento accelerato perché ovviamente Emery Car si vede che ha più o meno la stessa età dei cloni quindi è interessante come ipotesi anche perché giustamente non ci sarebbe altrimenti motivo per cui Nalase dovrebbe prendere un personaggio del genere scartarlo e buttarlo via e invece è possibile è possibile questa è una domanda bellissima che non è inerente a quanto visto ti è mai capitato di sognare qualcosa di Star Wars durante il sonno sicuramente sì mi sarà capitato ma non lo ricordo purtroppo ultimamente non ricordo mai quello che sogno e questo è molto brutto saranno sono anni ormai che ricordo poco i sogni che faccio però credo che in passato mi sia capitato spesso di sognare di Star Wars però non ho mai sognato io che facevo delle avventure nell'universo di Star Wars quella è una roba che mi sarebbe piaciuto sognare l'ascesa degli ingegneri ovviamente sì degli altri non gli importava niente tra virgolette nel senso erano sempre bambini orfani ma sensibili alla forza come in realtà erano cioè anche i sensibili alla forza che loro non sceglievano poi li tenevano sempre in considerazione li tenevano sempre in vista questo lo dico soprattutto magari per chi ha sentito le mie parole e ha pensato che i geni facessero la carità esattamente è importantissimo sempre per tornare al discorso Midi-Glorian Anakin aveva più di Yoda di Midi-Glorian eppure non era più forte di lui quando si conoscono soprattutto se pensate a un prodotto che si basa sui livelli di forze sui power up come può essere un qualsiasi shonen un qualsiasi battle shonen anzi però di quelli un po' più improntati proprio dal punto di vista dei power up eccetera Anakin teoricamente dovrebbe battere chiunque il problema è che Anakin nel corso della sua vita ne ha prese di batoste da altri personaggi iniziando da Obi-Wan questo significa che la tua misurazione di Midi-Glorian è solamente una misurazione potenziale cioè quello è il tuo potenziale ma non è che tu combatti sempre a quel potenziale lì e soprattutto ve l'ho detto tante volte e lo ribadisco l'essere Jedi cioè la più grande parte dell'addestramento Jedi forse anche più del 50% era la meditazione perché per essere Jedi per essere in equilibrio con te stesso dovevi avere mens sana in corpo re sano diremmo noi ma dovevi avere una mente sgombra il fatto di avere una mente occlusa da qualsiasi motivo imponeva al force user di diventare più debole perché gli dava degli ostacoli non è per non è un caso che anche soprattutto nelle opere dell'Alta Repubblica i Jedi soprattutto quando succedevano delle avevano dei turbamenti succedevano delle cose particolari che li facevano stare in pensiero la prima cosa che fanno i Jedi è meditare perché la meditazione ti riequilibrava ok e il fatto che Anakin fosse un personaggio molto cioè turbato avesse tante turbe nel corso avesse avuto tante turbe nel corso della sua vita ha influenzato cioè il suo stato fisico è potenziale nella forza era molto influenzato dal suo stato mentale il fatto che Anakin fosse instabile non ha giovato a suo vantaggio cioè non è andato a suo vantaggio negli scontri con Obi-Wan ad esempio perché e questo l'esempio di Anakin si può fare a tutti i Force User cioè se tu hai 20.000 midi-chlorian per cellula e hai un altro Force User ne ha adesso sto sparando numeri e un altro Force User ne ha 10.000 sono comunque tantissimi non è detto che tu che ne hai 20.000 vinci per per forza cioè capite non è non sono non sono i livelli di Dragon Ball non sono le taglie di One Piece che anche lì con le taglie di One Piece non è detto che anzi non è detto che vinci però non c'è un dato certo cioè la paura dei fan di Star Wars con i midi-chlorian era anche questa quando Lucas ha introdotto i midi-chlorian nelle 3G a prequel la paura dei fan era anche la possibilità che si diventasse tutta una cosa meramente numerica invece sono stati fortunatamente molto bravi nel corso poi degli anni oltre vabbè per anni c'è stata una ignoranza cioè hanno ignorato totalmente i midi-chlorian da un lato hanno fatto anche bene però quando hanno ripreso il concetto dei midi-chlorian e l'hanno attuato dal punto di vista scientifico questa è una cosa interessante ci hanno fatto capire che ma questa è una cosa che ci potevano potevamo arrivarci anche dalla trilogia prequel ci hanno fatto capire che i midi-chlorian non sono importanti in base alle tue esperienze cioè tu force user puoi diventare che hai pochi midi-chlorian magari puoi diventare più bravo di un altro che ne ha di più capite quello che intendo non è una misurazione veritiera di quelle che sono le tue capacità giordano buonasera appena arrivato felice o no del ritorno di barris devo dire che sono molto felice nel senso almeno almeno la finiamo tutti quanti di dare sempre teorie su barris perché ogni prodotto che arrivavano c'era il personaggio misterioso e tutti a dire quello è barris quello è barris quello è barris quello è barris Marrock è barris ne posso nominare tantissimi altri perché comunque un personaggio è uno di quei personaggi che effettivamente ci stava di scoprire cosa le era accaduto vedete è un po' come la questione di Queen Lamboss barris l'ultima volta che vediamo barris è ovviamente in The Clone Wars nella quinta stagione quando viene portata in prigione quella è l'ultima volta che vediamo barris è un personaggio di cui non sappiamo niente nel futuro e questi sono i personaggi che magari è anche bello rivedere perché sono personaggi che non hanno mai avuto più fortunatamente meno male che nessuno si è mai svegliato la mattina in Lucasfilm a dire magari affida a un autore un bello romanzo su barris soffi meno male che non è successo perché se no staremmo qua a parlare del disastro perché sicuramente avevano capito che c'erano altri piani oppure era un personaggio non dico talmente secondario un personaggio che comunque farci un romanzo su quel personaggio un fumetto soprattutto tanti anni fa poteva risultare controproducente perché diciamo è un personaggio molto di nicchia e quindi non si è fatto più niente cioè barris è rimasto lì un po' ripeto come Quillan Boss perciò da questo punto di vista essendo libera nel canone fa piacere rivederla poi magari ripeto è un personaggio che mi intrigava nonostante il fatto che ovviamente non la sopportassi però mi intrigava parecchio capire quelle che erano anche perché se ci fate caso poi che ironia direbbe il buon Palpatine nel senso che barris aveva visto come tanti altri inquisitori perché anche altri inquisitori erano stati portati nell'inquisitorio perché avevano visto il marcio dell'ordine Jedi e allo stesso tempo cercavano cioè era un po' un controsenso perché loro cercavano di sfuggire da questo marciume però poi erano attirati dall'oscurità e quindi poi c'era questo questo cambio di regime e in barris c'è la stessa cosa cioè nel senso il fatto che lei dicesse che l'ordine si stava allontanando dalla via del bene e tutte queste robe qua poi si ritorcerà contro e questa è una cosa narrativamente molto interessante perché lei stessa poi diventerà quello che aveva disprezzato e anche questo insomma è una frase che ricorre è diventata quello che aveva giurato di distruggere aveva preso delle strade che non avrebbe mai preso cioè nel senso ci sono molti elementi narrativi interessanti che possono essere vagliati e l'aspetto l'altro aspetto che mi interessa è il fatto degli inquisitori perché gli inquisitori ci sono sempre stati presentati in maniera molto generica e abbiamo visto in tanti prodotti come vi dicevo anche anche in Darth Vader 2017 dove ci sono tanto gli inquisitori dove ci viene mostrato anche i loro primi addestramenti però non entriamo mai al 100% nella loro psiche invece questa possibilità non solo prevede il ritorno di Barris ma il ritorno di Barris è funzionale per farci capire un po' più di avvicino le prerogative degli inquisitori perché come sappiamo la maggior parte degli inquisitori se non praticamente tutti erano dei ex Jedi quindi da ex Jedi è interessante capire il viaggio di queste di queste personalità all'interno dell'oscurità all'interno del lato scuro quindi Barris potrebbe essere una di quei personaggi che ci mostra quel suo lato e quando abbiamo visto questi racconti perché se avete giocato a Fallen Order avrete capito ad esempio nel caso di Trilla abbiamo visto questa abbiamo visto abbiamo conosciuto il suo passato abbiamo conosciuto le sue remore abbiamo conosciuto le conseguenze del suo rapporto con Seer eccetera 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 quindi ecco perché dicevo che magari sarebbe bello vedere anche Illuminara per mettere questi personaggi di fronte al loro passato e vedere i traumi che subiscono e il fatto che cadano ancora di più nel lato scuro è una drammaticità che comunque fa piacere vedere sullo schermo perché crea quella profondità al prodotto quindi Barris in questo caso non solo è consono il suo ritorno la sua riapparizione tra virgolette ma è anche consono il contesto in cui viene inserita questa sua riapparizione ecco perché è totalmente sbagliato quello che hanno fatto con Ventress dal mio punto di vista perché con Ventress tutto questo non c'è perché Ventress era un personaggio che è stato letteralmente preso e messo in un contesto che non doveva essere il suo ed è molto 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 diverso Giordano parere ombilione personale questa barba va tolta sì ma sapete io ogni tanto mi presento con la barba un po' più polta ogni tanto senza però sì non sei non sei l'unico che mi ha detto che sto meglio senza anche la mia compagna me lo dice che sto meglio senza quindi sono sono d'accordo con con te quindi quando posso cerco di toglierla sempre comunque adesso leggevo un commento su Emery Carr quante allora anche il conteggio di quante volte Emery si è sconvolta durante il decimo episodio quando è entrata nel cavo faccia sconvoltissima quando ha visto il quando ha visto il piccolo Bern il Tarlafan tra l'altro piccolo aneddoto che vi svelo adesso quando ha visto il piccolino si è sconvolta tantissimo poverina cioè la stanno mettendo veramente a dura prova quindi anche il personaggio di Emery adesso ci sono cose che non posso dirvi però la sua la sua evoluzione è stata lenta ma costante quindi credo che ci possiamo aspettare veramente tanto da lei è un personaggio che ho imparato ad apprezzare nel corso degli episodi e il decimo episodio me l'ha fatta veramente apprezzare tanto perché lei è stata una grande protagonista del decimo episodio perché poteva sembrare è un episodio che è visto totalmente dal punto di vista dell'infero però lei è stata una grande protagonista di questa crisi di identità che si riferisce a lei si riferisce anche ad altri personaggi ma soprattutto a lei e volevo dirvi che poi il Lucasfilm ha svelato il nome di quella specie no? perché voi sapete che nella maggior parte dei casi quando una specie non esiste o meglio quando una specie non è nei miei archivi di memoria probabilmente è una specie inedita invece quando ho visto l'episodio ho subito collegato una specie molto molto rara tra l'altro perché è comparsa solamente in solo l'ho collegata all'apparizione in solo e sono rimasto molto contento però l'episodio di The Bad Batch praticamente ci ha dato per la prima volta il nome di quella specie cioè quella specie lì era inedita fino a quel momento era senza nome e infatti quando poi è uscita la guida all'episodio ho dovuto andare a modificare il video che avevo fatto la videoanalisi perché nella videoanalisi avevo detto che fino a quel momento la specie non aveva un nome proprio perché a voi ci sono alcune quando esce l'episodio dopo due o tre giorni ci sono delle curiosità varie curiosità che sul sito di starwars.com la maggior parte del non lo dico ovviamente voi lo sapete voi mi conoscete quindi non sto peccando di superbia però la maggior parte delle volte quelle curiosità che vengono dette all'interno del diciamo di di questi articoletti che fanno su starwars.com già le conosco cioè già magari le ho registrate all'interno dell'analisi e soprattutto voi sapete siccome le mie analisi escono direttamente la mattina che molte di quelle cose diciamo sono cose che conosco per mia esperienza e quindi da questo punto di vista mi sono detto chissà se sveleranno il nome di quella specie lì inedito il nome inedito di quella specie e così è stato l'hanno chiamata tarlafans e tarlafan ad esempio nello specifico quindi sono andato a modificare il ho aggiunto un disclaimer però sono contento del fatto che abbiano sfruttato questa specie che ovviamente era rarissima era comparsa in una in un in un solo prodotto precedente e soprattutto gli abbiano dato anche un nome molto molto contento riccardo Emery mi ha ricordato il mio personaggio femminile preferito in persona 5 Makoto Nijima Queen anche lei all'inizio è cattiva ma in realtà ha un cuore d'oro e crolla per motivi simili approfitto di questa di questa bella similitudine per dire che proprio riguardo a persona sto io sono diciamo sono anche tra le altre cose adesso Ale non è presente in live però sono anche un fan d'Uber cioè nel senso ovviamente faccio un doppiaggio totalmente amatoriale e c'è un progetto che stiamo portando avanti proprio su persona quindi vabbè ma doppierò un personaggio molto molto di sfondo però mi ha fatto venire in mente questa cosa Riccardo tra l'altro c'è una sorpresa che sto preparando che stiamo preparando per voi per il per il Medford quindi per il 4 maggio ma non vi dico niente Riccardo pensi che Asuka sarebbe stata una grande G di cercavia io l'avrei vista perfetta nel ruolo beh considerando gli esempi che conosciamo di cercavia secondo me sì sarebbe stata molto molto perfetta peccato peccato per tutto quello che è accaduto all'ordine Jedi ogni tanto ci penso dico magari che ne so vi immaginate un episodio what if perché si vociferava del fatto che ci sarebbero era in sviluppo la serie what if di Star Wars poi adesso al momento non ne sappiamo niente però vi immaginate un episodio what if l'ordine Jedi se non fosse mai caduto cioè vedere tutti i Jedi che conosciamo tutti i Jedi sopravvissuti ma anche quelli magari che non sono sopravvissuti che compiono magari determinate missioni diverse mi è venuta in mente questa cosina qui proprio per il fatto di Asuka magari intraprende appunto la carriera all'interno dell'ordine di certa via potrebbe essere veramente molto molto interessante il suo carattere si sposa perfettamente con con questo ruolo Elisa cambia argomento un'archina 5 è stato il mio arco preferito prima Andor lo reputavo bello dopo quell'arco l'ho adorato questo mi dà una fiducia immensa per l'alba degli Giri per me allora io ho amato anche tantissimo l'arco di Aldani soprattutto a livello visivo uno spettacolo unico però l'arco di Narchina 5 cioè l'episodio il decimo episodio è una roba una roba troppo clamorosa infatti voi lo sapete io la mia semideformazione perché purtroppo non ne ho potuto fare totalmente il mio lavoro però mi sarebbe piaciuto tanto che diventasse al 100% il mio lavoro io diciamo lavoro anche nell'ambito del teatro ho la fortuna di essere tornato da qualche anno a lavorare in quest'ambito come insegnante però faccio anche spettacoli e e quindi per la mia deformazione ripeto semideformazione professionale vedere quella qualità lì vedere quei monologhi infatti avevo pensato poi la cosa purtroppo è sfumata perché è passato tempo però lo voglio fare avevo pensato anche a dei video ve l'avevo anche proposti e mi avevate risposto con molto entusiasmo avevo pensato a dei video dove semplicemente faccio nel senso recito i monologhi di Andor non solo ovviamente il monologo di Luten ma anche gli altri sono dei video che mi piacerebbe portare sul canale certo esulano un po' da quelle che sono le classiche i classici approfondimenti però giustamente si parla sempre di Star Wars quindi era un qualcosa che volevo portare perché l'impatto di quegli episodi è stato talmente forte per me che mi piacerebbe quindi sappiate che l'idea c'è ancora nonostante il fatto che non so se aspetterò il debutto della seconda stagione però l'idea c'è quindi sicuramente farò contenuti simili perciò sì confermo che Narkina 5 è stato un arco narrativo veramente clamoroso e il fatto che Willimon sia stato si sia unito anche appunto al progetto e allo sviluppo del film sull'alba degli Igeri ha enormemente ed esponenzialmente aumentato il mio hype oh questa è una cosa interessante di Alessandro perché adesso vi parlo di quella che a mio modo di vedere potrebbe essere anche una critica giusta nei confronti di quello che ha fatto Filoni per Tales of the Empire sarebbe stato molto interessante anche una doppia mini trilogia su Tarkin e Tron ad esempio sarebbe stato un modo per approfondire questi due personaggi estremamente interessanti se vogliamo fare una piccola critica a questo Tales of the Empire no? di Imperiale fondamentalmente cosa c'è? se voi ci fate caso le due protagoniste di Imperiale cioè è sempre qualcosa che si lega alla forza che si lega più all'ambito mistico e vabbè ci sta ci mancherebbe altro però c'è nel senso da un Tales of the Empire uno si aspetta qualcosa che sia legato a un Imperiale proprio nel vero senso della parola quindi ad un Tarkin diciamo ad un Tron però sapete che su Tron ci sono molte prerogative in più dell'essere un semplice Imperiale ma ad esempio anche un Krennic qualsiasi Imperiale cioè nel senso ci mancherebbe che ci sono personaggi che hanno più appeal però diciamo Tales of the Empire e poi c'hai Morgan Elsbeth e Barris cioè ok per carità però l'avrei chiamata che ne so Tales of qualcos'altro però comunque ci sta cioè nel senso sono comunque due figure che in un modo o nell'altro si legano all'Impero Galattico perché l'Inquisitorius faceva capo all'Impero Morgan Elsbeth si unisce all'Impero l'abbiamo visto quindi è solo una piccolissima nemmeno una critica è una piccolissima osservazione la barba è sinonimo di saggezza come devo fare devo farmi crescere la barba come Oppo Rancisis lui si che ne aveva di saggezza oh mi fa molto molto piacere allora ti terrò aggiornato sul progetto di persona allora per quanto riguarda invece la questione del 4 maggio posso farvi uno spoilerino nel senso che è sempre ovviamente è un doppiaggio di un prodotto particolare che stiamo portando però non voglio dirvi altro perché se no si capisce assolutamente sì ecco perché mi hanno colpito cioè i monologhi di Andor sono veramente monologhi da teatro sarebbero perfetti su un palco e per questo mi era venuta voglia di portarli di portarli tramite il canale che ovviamente è totalmente diverso da un palco però sotto certi aspetti mi permette anche di portare è vero che sul canale porto comunque approfondimenti analisi è una cosa molto analitica però allo stesso tempo mi permette di esprimermi anche il canale youtube ti permette di esprimerti anche a livello creativo quindi sotto certi aspetti è stato anche mi ha aiutato tanto aprire il canale sul fatto che diciamo non sono mai per tanti motivi che ovviamente non vi sto a spiegare non ho mai potuto inseguire veramente i miei sogni però diciamo che per com'è andata sono comunque contento anche Hugh Lawrence sì sì assolutamente sarebbe stato fantastico un approfondimento su di lui magari stefano organizziamo un viaggio a vedere Disneyland in California magari io sto seriamente seriamente prendendo diciamo visto che comunque tra un mese usciranno i biglietti per la celebration del 2025 ho le mani che mi prudono non potete immaginare quanto perché sono stato molto vicino alla celebration dell'anno scorso di Londra e purtroppo non sono riuscito per varie vicissitudini ad esserci mi sono ripromesso che considerando il fatto che sono un grande il Giappone è uno dei miei paesi preferiti la cultura giapponese mi affascina da sempre mi piacerebbe però ecco stavo per dire visto che Elisa l'ha appena scritto la voce della verità le mani prudono ma il conto piange non potete immaginare quanto piange quindi ripeto non voglio nemmeno rendervi partecipi della mia situazione economica ma piange piange veramente tanto perciò sarà sarà dura ma probabilmente mi toccherà seguirla nuovamente da lontano vedremo 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 anche perché appunto mi piacerebbe portare tanti bei vlog ma è difficile è difficile sono stato in Francia dice Stefano di Star Wars c'è veramente poco una delusione sì ma infatti di tematico cioè in Francia di tematico c'è veramente il nulla sia in California sia in Florida invece c'è più roba c'è il Galaxy's Edge c'è proprio un'area tematica tutta dedicata a Star Wars invece in Francia c'è un pifero di niente tra l'altro la nostra sfiga di europei sul fatto che abbiamo la Francia come punto di riferimento però non c'è assolutamente niente dal punto di vista Star Warsiano magari io come Luffy che sento i taburi della liberazione per andare in Giappone steso a terra cominciano cominciano a uscirmi diciamo le nuolette dalla bocca mi trasformo nel Dionica magari raggiungo il Giappone in un batter d'occhio comunque stavo vedendo abbiamo superato ovviamente la mezzanotte però siamo ancora a due ore e mezza di live quindi c'è ancora un bel po' di cui si può parlare poi siete ancora tanti quindi possiamo proseguire un altro po' guarda che nome mi tira fuori Giordano a mezzanotte 5 il conte Vidian che ho ricicciato fuori assolutamente sì ci starebbe stato tanto per Tales of the Empire anche se lì avrei temuto tantissimo perché già l'ho detto uno dei pochi uno dei pochi romanzi che ancora non è stato retconnato da Filoni è proprio una nuova alba per chi non lo sapesse il conte Vidian è il villain che compare all'interno di una nuova alba ed è una figura molto molto particolare tra l'altro è una figura particolare che ha delle belle sorprese ha delle belle potenzialità e mi sarebbe sempre piaciuto vedere in un'opera audiovisiva sarebbe stato interessante però anche in quel caso soprattutto se magari le ambientazioni erano avessero previsto Canon ed era ci sarebbe stato il pericolo retconone proprio anzi non il pericolo retconn ci sarebbe stata proprio sicuro la riscrittura mi chiede Piero novità su Jedi Survivor per PS4 lo hanno annunciato ad agosto ma poi silenzio tombale purtroppo niente ancora tutto taceo ad ogni live è tipica la frase abbiamo superato la mezzanotte è vero no ma infatti non lo nomino più basta tra l'altro è il primo incontro tra era e canan quindi vuoi che io poi sai Elisa lo nomino anche per così esorcizzo questa possibilità secondo me ma in realtà non è così perché dico filoni cioè hai la possibilità di riscrivere il primo incontro tra canan e era ti rendi conto di quello che sto dicendo e ancora non l'hai fatto lo farà spero che non lo faccia ma lo farà no comunque ovviamente le potenziali cioè parlando sempre di Tales of the Empire rispetto a Tales of the Jedi sempre la question delle riscritture ho notato ho notato il fatto che ci sia stata molta più differenziazione rispetto alla prima stagione di Tales of the Jedi anche il fatto di utilizzare Morgan come personaggio mi è piaciuto tanto perché cioè col personaggio di Morgan Filoni ci mostra tutte e tre le epoche pensateci il primo corto probabilmente sarà ambientato nella ovviamente nell'epoca delle guerre dei cloni trilogia prequel il secondo corto epoca imperiale con l'annessione all'impero e il terzo corto in epoca post-imperiale quindi mi è piaciuto il fatto che nel raccontarci il passato di Morgan Hensbeth che è comunque un personaggio che a me intriga veramente tanto abbia utilizzato proprio il fatto di percorrere tutte le epoche e questa è una cosa molto interessante e poi tra l'altro sempre la questione di Morgan ricordo ancora ormai è passato tempo in memore dalla sua prima apparizione in The Mandalorian 2 tra l'altro sono passati solamente 4 anni però sembra che ne siano passati 10 considerando tutto quello che abbiamo passato soprattutto in pandemia nella sua prima apparizione in The Mandalorian 2 ci fu all'epoca ci fu quella vi ricordate quello che vi dissino quella famosa truccatrice che fu costretta a cancellare il post perché disse che Morgan Elspeth era una sorella della notte perché disse che praticamente le era stato detto questo in sessione di trucco poi lei cancellò il post eccetera eccetera e molti si lamentarono e dissero Emma Morgan Elspeth sorella della notte non penso che sarà così invece dicevo vediamo perché comunque ovviamente se l'ha detto la truccatrice che fa parte del team di sviluppo un fondo di verità ci deve essere per forza e questo fondo di verità c'era e quindi mi fa piacere il fatto che comunque la questione che Morgan Elspeth fosse una sorella della notte era stato già pensato nella concezione del personaggio perché se il personaggio è compasso per la prima volta nella seconda stagione di Mandalorian questo vuol dire che quando è stata concepita era già stata concepita come una sorella della notte quindi questo quando si hanno dei piani diciamo a lungo termine è sempre un qualcosa di positivo scopriremo che colpo di scena Filoni ama una nuova alba e il suo romanzo canonico di Star Wars preferito chi sa la domanda che mi pongo ogni giorno della mia vita perché caro Filoni non puoi lasciare tutto com'è e si semplifica la vita a lui ovviamente la semplifica a noi rende le storie più belle rende tutto più fruibile allora Filoni è una personalità che la maggior parte del fandom idolatra ok quindi questo significa che se Filoni avesse fatto le cose per bene quindi avesse invogliato le persone a leggere romanzi e fumetti probabilmente ad oggi una grande fetta di fan che adora Filoni ma che giustamente non comincia a leggere perché Filoni del cartaceo non gli imprega nulla potrebbe far parte della diciamo della grande famiglia di coloro che che seguono le opere cartacee perché si sono fatti invogliare proprio da proprio da Filoni quindi questo è il motivo per cui poi sotto certi aspetti e sotto tanti aspetti mi arrabbio perché le potenzialità ci sono ci sono ma il problema è sempre lo stesso non si impegna non lo vuole fare lo fa apposta lo fa apposta io ve l'ho sempre detto le persone dice all'inizio dicevano eh vabbè ma è sbadato eh vabbè non l'ha fatto apposta lo fa lo fa apposta assolutamente anche la questione di Ventress io ve l'ho detto lui la voleva inserire già in in resistance cioè se avesse fatto una roba del genere sarebbe stata ancora più orrenda perché ancora ancora l'apparizione di Ventress ha un suo perché nel post nel post ordine 66 nonostante tutto quello del insomma se il romanzo non esistesse o meglio se la morte di Ventress nel romanzo fosse stata apparente e non così bella così vera e struggente avrebbe molto più senso vedere un personaggio come Ventress in quell'epoca e non vederla a ridosso della trilogia sequel il santo cielo meno male che all'epoca è stato fermo perché anche a lui gli prudevano le mani probabilmente meno male che all'epoca è stato fermo e non ha fatto una roba del genere perché insomma sarebbe stata veramente una roba orribile e perciò la mia speranza è che comunque in Tales of the Empire si sia quanto meno mantenuto ecco diciamo così tra l'altro anche lì ve lo dico anche nell'analisi del trailer anche lì saranno ovviamente tre corti e tre corti perché sono sei corti in tutto quindi sarà più o meno ovviamente la stessa avrà la stessa struttura della prima stagione perché fondamentalmente questa è una seconda stagione di Tales of the Jedi questa è una domanda che mi fate spesso e a malincuore a malincuore rispondo perché giustamente mi hai detto anche tu che te lo chiediamo chiediamo sempre ma speriamo che tu possa vedere il finale allora vi parlo di quella che è stata la mia settimana di post Pasquetta allora io mi sono concesso due giorni Pasqua e Pasquetta in cui sono stato totalmente lontano mi sono autoimposto di stare lontano dal pc quindi dall'editing dallo scrivere eccetera eccetera sto pagando questa scelta a caro prezzo perché sto recuperando tanto e soprattutto in questo periodo cioè in questa settimana è stata un incubo perché avevo l'analisi del decimo episodio l'analisi dell'undicesimo episodio l'analisi del trailer di Tales of the Empire e voi sapete perché ve l'ho detto tempo fa quanto tempo mi porta via un'analisi un conto è fare un video tipo io ho quel video di cui vi parlavo quello del force user del lato oscuro di Diacolite che ce l'ho lì in canna ed è un video più versatile cioè nel senso una video curiosità quindi ci metto tra virgolette poco a editarla per editare una video analisi di una puntata di The Bad Batch ecco perché ogni tanto non dico che ci ripango male però quando soprattutto sulle video analisi spero sempre che vengano viste perché c'è veramente tanto lavoro dietro per editare una video analisi ci metto veramente minimo tre giorni di lavoro abbastanza pieno perché sono sempre 25-30 minuti di video con pieni di informazioni almeno considerate che tutte le video analisi tutte superano i 100 contributi visivi cioè se voi contate le immagini che sono inserite nell'analisi non sono mai meno di 100 a certe volte arrivo anche a 200 ed è forse una delle parti più strazianti è cercare i contributi visivi quindi se un'analisi del genere mi toglie via tutto quel tempo immaginate quando nello stesso momento se ne sbucano tre tipo questa settimana infatti ecco perché ho continuato tra virgolette a maledire Lucasfilm per non avermi inviato gli altri episodi in anteprima perché se avessi avuto gli altri episodi il decimo e l'undicesimo avrei potuto giostrarmeli molto meglio tra l'altro il fatto ha voluto che oltre al trailer di Tales of the Empire fossimo in una settimana in cui sono usciti due episodi insieme e anche quella è una roba che è meglio che non ve lo sto a dire perché poi ovviamente io non mi limito alle analisi sul canale perché io scrivo le recensioni le analisi easter egg sul sito poi tramite il canovaccio del sito lo utilizzo per registrare dopo la fase di registrazione c'è tutta la fase di editing è un delirio quindi riesco veramente a malapena a trovare il tempo di dormire cioè nel senso durante questa settimana sto facendo le ore piccolissime come ho fatto le ore piccolissime nel pre-Pasqua per potermi garantire quei giorni in più quindi purtroppo il fatto di non riuscire a giocare a Jedi Survivor è un qualcosa che è un qualcosa che mi rende molto scontento perché significa che non ho veramente il tempo di respirare è un po' come quando sei lì che vuoi fare qualcosa ci tieni davvero e non hai letteralmente il tempo materiale di farlo quindi oltre a tutti i problemi tecnici che ho avuto nel corso del tempo come ben sapete adesso si sta diciamo in un periodo in cui oltre a quelle problematiche si è aggiunta anche la questione che ho veramente tanto da fare quindi quando sarà concluso ad esempio adesso che mi hanno dato gli episodi in anteprima il lavoro è aumentato perché sto facendo le analisi in anteprima e quindi poi le dovrò anche le sto anche registrando quindi immaginate adesso che sto facendo tre video analisi tutte insieme 12 13 e 14 quindi al momento il lavoro è esponenzialmente enorme però questo mi permetterà tra una o due settimane di respirare un po' di più quindi anche quando si concluderà The Bad Batch ci sarà poi Tales of the Empire però diciamo che dopo dopo maggio da maggio diciamo i primi di maggio fino ai primi di giugno quando uscirà The Acolyte avrò un po' più di respiro fortunatamente quindi è probabile che in quel periodo lì mi possa dedicare nuovamente a Gira e Survivor anche perché questa è una cosa che vi ho detto assolutamente prima dell'uscita di Outlaws non sappiamo ancora quando sarà però prima dell'uscita di Outlaws voglio assolutamente finire Survivor non ci mancherebbe che mi hai ricordato Stefano come è scritto nel libro Le Rete dei Gedi i Rodiani puzzano e anche Rodia puzza molto è vero sì ci sono autori che sono molto sottoni è vero tipo Frid è molto sottone cioè le opere di Frid sono belle pesantucce sono belle perché Frid come M'Zan è molto esperto dal punto di vista militare quindi se leggi Battlefront Compagnia Twilight entri veramente all'interno della guerra sporca ed è bello e infatti io spero che Panini porti in Italia Alphabet Squadron perché la trilogia di Alphabet Squadron è veramente veramente bella 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 spero che possano arrivare in Italia quei romanzi purtroppo però Compagnia Twilight è uno di quei romanzi canonici è uno dei romanzi canonici che ha avuto meno successo devo dire che a me nemmeno è piaciuto tanto soprattutto il protagonista veramente dimenticabile però è un romanzo pregevole dal punto di vista di come ti dipinge la guerra dal punto di vista dei ribelli è un po' come è un roguan su carta e l'ho amato per quello però sì è molto pesante come romanzo Frid è un po' un sottone però è bravo è bravo è bravo assolutamente ti ringrazio Gianluca ma sai cos'è io mi faccio prendere dal senso di colpa ti faccio un esempio io so che voi aspettate i miei video anche se dovessi metterci mesi però io parto sempre con la concezione di dire devo assolutamente cioè mi sento male fisicamente se penso che l'analisi di un episodio di The Bad Bash in questo caso la dovessi pubblicare dopo il mercoledì cioè dopo l'episodio successivo questa roba mi fa mi fa alterare perché penso al fatto di dire no devo pubblicare l'analisi prima che esca l'episodio e questo spesso mi ha portato ripeto sempre a fare notate certe volte avrete avrete fatto presente del fatto che molti episodi che ne so molte analisi le faccio uscire alle alle 10 alle 11 di sera del martedì tipo quella dell'episodio del non episodio di Ventress è uscita tardissimo sia perché l'ho dovuta rimandare perché appunto ci sono state tutte le vacanze di mezzo eccetera e sia perché quel giorno Filoni mi aveva preso dopo la corrente il caricamento su YouTube è durato mezza giornata cioè solitamente quando carichi un video su YouTube i controlli ci mettono massimo 10-20 minuti per farli quel video ci ha messo mezza giornata per caricarsi cioè prendetevi conto quindi sono stato veramente perseguitato da Filoni fino all'ultimo però sono riuscito a far valere la mia voce no ma io adoro i Rodiani però diciamo che adoro i Rodiani diciamo che hanno quel piccolo difettuccio però ci puoi come posso dire ci puoi convivere ci possiamo convivere assolutamente sì visiterei Rodia molto molto volentieri a proposito di tutte queste questioni visto che stiamo tra virgolette un po' divagando abbiamo effettivamente parlato di tutte le questioni riguardanti il decimo l'undicesimo episodio mi è piaciuto siamo riusciti a parlare di tante tematiche interessanti sia sulla caccia agli Jedi di quel tempo o meglio la caccia agli obiettivi con valore M a tutte le prerogative mi è fatto piacere parlare di approfondire ancora una volta le prerogative di ampliare l'universo della forza abbiamo parlato delle emozioni dell'undicesimo episodio della crescita di Omega abbiamo parlato di tante questioni riguardanti il trailer di Tears of the Empire lo screensaver del PC fisso si è spento e questo significa sempre che è passato tanto tempo quindi rispondo velocemente a The White Tiger sappiamo già la durata della puntata finale di Bad Batch non lo sappiamo ipotesi mia personale la durata l'episodio finale è un episodio a due quindi è un po' come la premiere della prima stagione durerà circa 70 minuti 60-70 minuti secondo me come a chiudere il cerchio no? perché il fatto che sia c'è solo l'episodio 15 non c'è il 16 mi ha fatto sempre pensare però non lo possiamo sapere vi do solo un piccolo indizio e poi ci diamo gli appuntamenti per la prossima live e vi do anche gli appuntamenti delle prossime uscite il piccolo indizio che vi do è in base a quello che ho visto all'interno dell'episodio 12 13 e 14 spero vivamente che l'ultima puntata quindi quella finale duri di più cioè siano due puntate insieme perché c'è ancora tanto da dire c'è ancora tanto da dire e qui mi taccio ci manca solo che lo sogno a filoni vi perseguite anche là alcuni dicono che non sembra che Omega abbia 14 anni mi sa che non tanti si ricordano come erano a 14 anni infatti questa è una cosa che non ho capito molti dicono no sembra avere sembra essere molto più grande o molto più piccola ma sinceramente no comunque con questa considerazione Omega è tutto e per tutto una 14enne però ripeto vi do gli appuntamenti per adesso stavo leggendo sempre i vostri commenti vi do gli appuntamenti prossima live probabile al 90% venerdì venerdì sicuramente alle ore 9 quindi nel caso non prendete impegni perché parleremo del dodicesimo episodio e poi parleremo anche del trailer di Outlaws e soprattutto parleremo di tantissimi altri argomenti perché come sapete nelle nostre live si può sempre spaziare nei prossimi giorni invece importantissimo uscirà sicuramente prima di mercoledì l'analisi dell'undicesimo episodio e a metà settimana uscirà la ricchissima analisi che sarà sia reaction del trailer che però è una reaction un po' particolare e sia analisi scena per scena del trailer di Tales of the Empire quindi questi sono gli appuntamenti per i prossimi giorni io ringrazio davvero tantissimo come sempre tutti coloro che mi hanno fatto compagnia fino a mezzanotte e mezza fino alle tre ore di live ormai famosissime tre ore di live quindi ringrazio Stefano ringrazio Riccardo ringrazio Elisa ringrazio il caro Wolfpack Marshall ringrazio veramente Gianluca tutti coloro che Stefano MXG The Gornation tutti coloro che sono rimasti fino alla fine tutti coloro che mi hanno seguito dall'inizio poi magari sono andati a dormire soprattutto come sempre tutti coloro che mi seguono in differita perché la live questa live e tutte le altre tutte le altre live le potete recuperare sul canale e permettetemi di ringraziare anche chi magari mi segue senza interagire perché siete silenziosi ma siete una presenza a cui do molto molto peso in ambito positivo e per questo vi ringrazio buonanotte a tutti che l'insolenza sia con voi alla prossima un salutone grazie a tutti